Allora, buon pomeriggio e benvenuti. Mi chiamo Donna Bellotti, rappresento dell'Associazione Perfetto di Senza Tarniera, che ha appunto assunto questo compito di organizzare un incontro pieno. Il incontro pieno si svolgerà in questo interno. Interverrà per primo l'autonomia, la dottoressa Pasetti. Per quanto riguarda il curriculum di ciascuno, chi ha preso la cartetta all'interno ci sono le stelle, i confini dei redattori. Rispetto al programma che è stato distribuito all'impresso, ci sarà una notifica di quanto la dottoressa Pierra, che giudice titelare nazionale di Turino, per le ragioni famiglie che ha voluto sforiere del tempo, quindi c'è da sei lavoro prima. Per cui mi ha dato la possibilità di prendere una di prima rispetto a quello che è stato nel programma. Dopodiché interverranno due avvocati, l'Avvocatessa Colombini del Foro di Modena e l'Avvocatessa Colombini del Foro di Modena. Dopodiché ci sono state delle richieste di testimonianze che vengono da lontano e quindi avranno la precedenza. E queste testimonianze interverranno immediatamente con gli interventi degli avvocati. A seguire ci sarà la relazione del dottor Fiebro. Purtroppo il dottor Magno per rafferimenti familiari non è potuto essersi con noi. Ad ogni modo, terminato l'intervento del dottor Fiebro, io mi prenderò un po' di spazio per dire delle cose in quanto come familiare esperta per esperienza o qualcosa da dire a proposito del tema che era stato presentato nel curriculum al dottor Fiebro. Infine, mi era dato molto spazio a voi presenti perché il nostro obiettivo è quello che c'è stato lo stesso per contegno, formazione e partecipazione in sanità. E' un nostro obiettivo quello appunto di rinforzare la partecipazione. Mi dispiace che ti impegno per far conoscere questa iniziativa da parte del nostro Stato enorme e anche da parte dell'interventore Musolino che rappresenta la Cina Democratica a cui do la parola. C'è qualcosa? Sì, un attimo che... Sì, grazie. Quest'inizio fa è stata organizzata appunto da... Sì, grazie. ...il'intervento di quinto, iniziativa, iniziativa, è stata organizzata da l'intervento senza barriere con appunto la poca di l'Igiene Democratica. L'Igiene Democratica è un'associazione storica per il momento della salute ha proprio più avvoluto un congresso iniziale del 15-16 maggio del 1976 un convegno costitutivo perché abbiamo un certo numero di anni di esperienza l'uso di riferimento nel genocritico è sempre stato quello appunto di un incontro tra sapere operario per sapere persone in generale dei lavoratori con il sapere operario infatti la genocritica si è molto concentrata sulla parte relativa alla salute ambiente, lavoro e veramente anche tutta la questione delle problemi relativi appunto alla salute sul lavoro ogni anno purtroppo verifichiamo le negatività e chiaramente il tempo poi ha aumentato i suoi punti di valutazione cercando appunto di innovare tutto ciò che riguardava comunque l'obiettivo della salute in questo periodo in particolare ci stiamo molto dedicando a quello che sta accadendo nel servizio sanitario nazionale con tutti i problemi alle privatizzazioni che stanno venendo avanti appunto per una continuata e totale quasi mercificazione sia sanitario che in altri per questo appunto ci parliamo anche per la richieda del servizio sanitario nazionale pubblico universalistico basato sulla fiscalità generale e per questo punto possiamo cominciare la parola ai datori per cui do la parola a il servizio sanitario di Lugna che è appunto un recitamento di più università di giocattica della università di Bologna e che ci parla tanto della parte relativa alla formazione diciamo che Macacaro che è stato un professore che ha dato vita poi a la vicina democratica aveva evidenziato l'elemento uno dei elementi sembritari della formazione di la appunto che la facoltà di medicina come va a essere portata prego mi ero dimenticata è presente nell'ordine dei medici secondo io sono venuto a portare il saluto dell'ordine come era stato richiesto volentieri perché fragilità fa rima con cronicità fa rima con malattia fa rima con territorio e ci siamo io sono medicolo di medicina generale quindi vivo fortemente questa problematica e trovo giusto soffermarsi su questo tema perché se c'è una parte della medicina che in questo momento è in una parte in maniera di dritta e l'attenzione sulla grone città l'attenzione sul territorio l'abbiamo visto con la pandemia sono problemi significativi e i modelli di rapporto fra il medico il meditore non sono sempre facili avrebbero bisogno sicuramente di un lavoro di confruttimento come peraltro sarebbe anche giusta una maggiore attenzione da parte della sanità nel territorio a situazioni di difficoltà è anche vero che negli ultimi anni la sanità è stata ridotta è stata diminuita nei suoi fondi e sicuramente l'attenzione alle comunità non posso far altro che dire fare miei auguri a questo processo questa linea di attenzione grazie dell'attenzione che avete a questa situazione grazie scusate non vorrei fare un ulteriore riazza non conosco se tra il pubblico ci sono dei rappresentanti istituzionali sono stati invitati nel risulto troverete che sono stati invitati al sindaco l'assessore comunale alla sanità ieri a non cantare cioè i vari consiglieri regionali comunali della città metropolitana 55 sono i comuni che fanno capo alla città metropolitana quindi io non posso conoscere se tra i presenti ci sono dei rappresentanti se ci sono vi invito a venire a portare il saluto vi ringrazio per quello che mi riguarda appunto tra i rappresentanti istituzionali e regionali mi ha scritto una nota l'assessore regionale alla sanità è un po' lunga comunque io ho dichiarato che la leggerò pertanto nello spazio che mi sono riservata cioè mancando il dottor mano interverrò io e in quel contesto leggerò la nota dell'assessore regionale ora inizia l'intervento il dottor Lumia buonasera a tutti se mi può attivare la iphone lì mi fa l'assessore qui l'assessore è un po' che riguarda la realità che ritengo importante perché è importante come il dottor Pernodi è la cura delle persone fragele di questa parla il mio intervento perché la formazione del medico perché la persona fragile il paziente fragile è tale perché il paziente se vi va avanti è un paziente no vabbè è un paziente vulnerabile è un paziente che ha delle patologie che coesistono che si intersecano e che danno dei problemi queste patologie ovviamente in quanto patologie devono essere riconosciute e diagnosticate dal medico il quale medico poi imposta la terapia quindi l'attribuire le caratteristiche del paziente fragile dipende dall'aver fatto una diagnosi e una terapia di aver impostato una diagnosi ecco volevo adesso dire due o tre cose su questo che è la diagnosi e la terapia che sono compiti specifici mi tolgo la mascherina del medico sono l'atto l'atto medico ecco ed è qualche cosa è un'azione che può fare solo il medico che ha una formazione specifica che lo fa in che modo mettendo in moto un ragionamento che fa nella sua testa che è il frutto di tutto del percorso formativo che ha avuto per come ha studiato le malattie come si manifestano nella popolazione che cause patologie che sintomi e segni clinici possono avere quindi la la diagnosi è proprio un compito tipico e specifico non derogabile del laureato e abilitato in medicina e chirurgia e per fare la diagnosi il ragionamento del medico il ragionamento noi diciamo clinico adesso dirò delle ovvietà per i medici presenti però mi preme dirlo a chi magari medico non è e non non conosce queste cose ecco come viene fatto viene fatto attraverso un percorso che comprende varie fasi la prima fase della diagnosi l'anamnesi l'anamnesi che ha diversi aspetti l'anamnesi familiare fisiologica patologica remota patologica recente l'anamnesi che non è un atto meramente burocratico come qualcuno ha detto anche se era laureato in medicina ma forse delle anamnesi ne aveva fatte poche tempo fa ha detto l'anamnesi è un fatto burocratico no la raccolta dell'anamnesi che va fatta con criterio in base alle conoscenze è atto medico poi dopo l'anamnesi andiamo avanti c'è la la visita la visita del paziente la visita del paziente il cosiddetto esame obiettivo con tutte le sue fasi l'osservazione la palpazione la percussione l'auscultazione sono tutti i momenti in cui il medico mette in campo tutte le conoscenze che ha studiato nel suo corso di studi e che gli derivano poi dai tirocini e dall'esperienza fatta per arrivare a riconoscere la malattia e per poi indicare eventualmente degli esami per confermare il suo sospetto clinico esami che sono esami di laboratorio esami strumentali radiologici endoscopici esami fisici di vario tipo più o meno invasivi esami che non possono essere buttati lì sparati tutti in maniera indifferenziata ma sono scelti in base al ragionamento che il medico sta facendo sul sospetto clinico mi servento ancora se poi mi da la prossima quindi per fare questo per fare la diagnosi la terapia la terapia poi è qualche cosa anche questo di complesso di complesso perché ci sono diversi tipi di terapia c'è la terapia fatta con le medicine con i farmaci che quindi devono essere conosciuti perché sono stati studiati si conoscono gli effetti le interazioni gli effetti collaterali le complicanze di questi farmaci poi c'è la terapia chirurgica che qui è un campo un campo enorme scegliere se e cosa e quando e per chi poi c'è la terapia fisica quindi il il medico mette in campo vai pure avanti tutte le conoscenze che ha acquisito nel corso degli studi gli studi che per la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia durano sei anni durano sei anni in cui si studiano più di novantasette materie suddivise in più di trentasei esami quelli obbligatori poi ci sono anche quelli facoltativi per cui vi ho messo velocemente vai pure avanti veloce se riuscite a leggere sono scritte in piccolo però sono le materie del corso di laurea medicina e chirurgia che vengono poi completati dai tirocini perché lo studente prima di arrivare alla fine di laurea si fa anche dei tirocini pratici cioè frequenta i reparti ospedalieri delle varie discipline per diverse ore che devono poi essere certificate e alla fine del sestanno alla fine di tutto questo corso arriva alla laurea una volta dopo la laurea c'era anche l'esame di abilitazione oggi un po' per la pandemia un po' per altre ragioni l'università ha fatto la scelta di far diventare la laurea una laurea abilitante per cui al momento del conseguimento della laurea lo studente diventa medico e diventa abilitato all'esercizio della professione medica questo in virtù del fatto che in commissione di laurea poi ci sono dei rappresentanti dell'ordine che certificano questo tipo di preparazione che una volta veniva certificata con un esame successivo un esame di abilitazione oggi al momento della laurea il medico viene abilitato all'esercizio della professione diciamo che questo è da da due anni probabilmente la pandemia ha accelerato questo percorso il giorno dopo che si è laureato il medico si iscrive può iscriversi all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di residenza e può cominciare a esercitare la medicina e la chirurgia in tutte le sue branche escluse due che sono quelle che necessitano una specializzazione particolare che sono l'anestesia e la rianimazione e la radiologia oltre a questo percorso di studio per ottenere la laurea il medico in base alle sue preferenze in base alle sue attitudini in base ai suoi desideri in base alle sue necessità può continuare il percorso di studi iscrivendosi ad una scuola di specializzazione all'università di Bologna ce ne sono 49 per conseguire il diploma di specialista in qui ve le ho messe tutte quelle che sono presenti le scuole che sono presenti all'università di Bologna sono corsi di studio dai 4 ai 5 anni fino a qualche anno fa alcune anche duravano 6 anni come specialità chirurgica qui vedete sono tante le specialità mi preme sottolineare la specialità in medicina di emergenza e urgenza se vai avanti che è una specialità di cui oggi c'è molta carenza di medici e ci sarebbe molta necessità perché sono noti a tutti le legge sui giornali anche oggi le carenze che esistono nei nostri pronto soccorsi che obbligano i medici presenti ad un sovraccarico di lavoro sovraccarico che però forse dipende anche dal fatto che si tende ad usare il pronto soccorso come via breve per ottenere una diagnosi una terapia che magari una volta forse si riusciva a ottenere in tempi più rapidi sul territorio quindi l'iperafflusso al pronto soccorso spesso dipende dalle carenze organizzative che ci sono nel territorio e parlo sempre di servizio sanitario nazionale servizio sanitario pubblico e mi piace molto l'accenno che ha fatto l'amico di medicina democratica sulla difesa del servizio sanitario pubblico che deve essere fatta a tutti a tutti i costi servizio sanitario pubblico che negli ultimi anni è stato sempre tagliato riducendo soprattutto il personale il personale medico il personale infermieristico e ovviamente portando quindi a una riduzione dell'offerta dei cittadini i quali per abbreviare il percorso di diagnosi e terapia spesso si rivolgono anche per patologie non di emergenza al pronto soccorso creando dei problemi dei disservizi dei sovraccarichi che portano al fatto che chi ci lavora in questo ambito subisce uno stress notevole e quindi l'attività nel pronto soccorso attualmente è poco poco gratificante poco appetibile anche per per il medico che sa che andrà incontro a diversi diversi problemi questa è la formazione universitaria poi c'è anche no si è andato troppo avanti c'è anche la formazione dei medici di medicina generale cioè il medico lavorato in medicina che non si iscrive a una scuola di specializzazione può scegliere di fare il medico di medicina generale accedendo alla convenzione con la regione frequentando un corso proprio specifico per la medicina di base che dura tre anni dura tre anni dove c'è una didattica se torno indietro di due una didattica pratica e una didattica seminariale sono tre anni piuttosto attivi con molte ore di formazione oltre oltre alla fine di questo percorso può accedere alla convenzione qui questa vai avanti ancora una due la prossima ecco qui vedete qual è il carico di lavoro oggi di un medico di medicina generale anche i medici di medicina generale scarseggiano c'è da dire una cosa importante perché scarseggiano queste figure perché negli anni chi gestisce il servizio sanitario nazionale non ha voluto fare una programmazione adeguata programmazione vuol dire tenere presente di quelli che sono i servizi che fai oggi di chi li dà quei servizi tenere presente i bisogni che ci saranno tenere presente chi uscirà dall'attività quindi i pensionamenti sono più di 20 anni che sindacati e ordini vanno dicendo guardate state attenti caleranno i medici però la programmazione non è mai stata fatta in maniera adeguata ogni tanto qualcuno spara facciamo togliamo il numero chiusa medicina e questa è una sparata è sbagliato il problema reale è che c'è un grosso gap tra il numero di laureati in medicina e chirurgia ogni anno e il numero di posti disponibili nelle scuole di specializzazione e nei corsi di medicina generale è quello che dovrebbe essere aumentato dovrebbe essere potenziato negli anni passati vi faccio un esempio su 10.000 laureati in medicina e chirurgia c'erano 6.000 posti nelle scuole di specializzazione quindi c'erano poi un altro migliaio potevano entrare nei corsi di medicina generale però c'era circa 3.000 medici neolaureati che restavano fuori dal percorso formativo percorso formativo che ha comunque una sua importanza per entrare a lavorare nel servizio sanitario nazionale perché per essere assunti nel servizio sanitario nazionale cioè in ospedale nel concorso che si fa è prevista la specializzazione aver conseguito la specializzazione nella disciplina lo stesso per fare per avere la convenzione di medicina generale bisogna avere quel corso quindi c'era c'era questo gap ultimamente con gli ultimi provvedimenti sono stati aumentati i posti nelle scuole di specializzazione però questo è ancora insufficiente anche perché quello che è mancato negli anni precedenti non lo si può sistemare in un anno ci vuole del tempo ci vogliono gli anni di corso di formazione quindi forse di questo aumento che è stato fatto che comunque è ancora insufficiente perché leggevo sono stati proposti 14.000 posti nelle scuole di specializzazione a fronte di 22.000 laureati che ci sono però ci vorrà del tempo quindi questo gap per colmarlo ci vorrà del tempo ed è stato determinato proprio dalla mancanza di visione che hanno avuto le strutture sanitarie regolatorie che devono dare al Ministero dell'Università la programmazione questo perché fondamentalmente perché il personale costa le aziende sanitarie per ripianare i bilanci come tante aziende non hanno trovato di meglio che ridurre i costi del personale ecco comunque detta questa cosa se vai avanti volevo sottolineare un'altra cosa oltre a questa formazione però anche i medici laureati specializzati medici medicina generale hanno l'obbligo di ogni anno di fare una formazione di aggiornamento cosiddetta educazione continua in medicina acquisendo dei crediti quindi la formazione del medico continua va avanti per tutta la vita ecco la cosa che mi preme sottolineare è questo forse si è pensato negli anni passati o perlomeno i nostri amministratori e politici hanno pensato che si potesse fare a meno di tanti medici che si potesse magari ridurre l'atto medico a qualcosa di surrogabile surrogabile magari con con dei computer con degli algoritmi o con altre professioni che però non hanno la stessa specifica e adeguata preparazione scientifica culturale e tutto il bagaglio con gli algoritmi ad esempio vi faccio vedere un esempio di un algoritmo che è stato utilizzato che viene utilizzato ancora per l'emergenza ad esempio in una crisi convulsiva ecco l'algoritmo dice che il professionista che interviene di fronte alla crisi convulsiva somministra 10 mg non so se riuscite a leggere 10 mg di midazola mentre muscolo se la crisi non passa ne fa 0-2 proprio endovena vai pure avanti se la crisi non passa chiama il medico in una situazione di emergenza allora intanto un algoritmo del genere è una cosa assurda intanto perché la crisi convulsiva se vai avanti adesso non voglio so che non ho tanto la crisi convulsiva è un insieme di sintomi che può essere presente in tantissime patologie le quali patologie possono avere una terapia diversa e a volte anche opposta quindi scrivere crisi convulsiva fai 10 mg di midazola è veramente dal punto di vista medico e scientifico un assurdo perché si possono fare dei danni grossi la crisi convulsiva vedete lì ci sono tutte le patologie che possono esprimersi con una crisi convulsiva anche un'ipoglicemia può esprimersi con una crisi convulsiva ma se gli dai del midazolam va in depressione respiratoria gli devi dare dello zucchero quindi non lo puoi fare non puoi fare un atto medico con un algoritmo ci vuole il medico lì soprattutto poi in una situazione di emergenza magari territoriale lontano che faccia una diagnosi precisa che decida la terapia appropriata ecco questo sistema vai pure avanti qui avevo messo altre cose avevo messo anche il midazola il midazola è un farmaco sedativo ipnotico un epezodiazepina che induce rilassamento muscolare ma anche sonno e depressione respiratoria io che fra le mie attività faccio anche l'endoscopia oltre a fare il chirurgo quando faccio una maconoscopia di sedazione ne faccio tre quattro massimo cinque milligrammi e subito dopo faccio l'antagonista quindi i pazienti sono stesi con tre milligrammi cioè se non li controlli vanno in depressione respiratoria per cui scrivere delle cose così in una tabella che dovrebbe essere utilizzata in urgenza è veramente assurdo però ne hanno fatte anche altre di queste tabelle vai avanti questa qui per il dolore toracico addirittura questo è non so se riuscite a interpretarlo si chiama il diagramma delle responsabilità di chi la tabella di responsabilità di autorità chi fa cosa R la sigla R sta per responsabile di quell'attività la sigla C sta per collabora per l'attività ecco guardate il controllo clinico la responsabilità è dell'infermiere il medico collabora vai avanti ancora vai avanti ancora questo è il programma la tabella per la crisi da opiacei nel diagramma di responsabilità e autorità non c'è neppure il medico quindi questo è un voler non utilizzare la figura del medico perché forse perché costa costa troppo quindi mettere troppi medici costa vai pure avanti non parliamo poi di altri protocolli che sono stati fatti ad esempio questo è un protocollo regionale che autorizza non medici all'impianto di cateteri venosi centrali ad accesso periferico ecco che sono atti medici anche tecnicamente abbastanza complessi che devono essere fatti con un'indicazione raccogliendo raccogliendo un consenso informato di cui il responsabile è il medico facendo poi le manovre con una certa perizia vai pure avanti e qui consiglia addirittura di utilizzare strumenti tipo l'ecografo oppure vai avanti l'elettrocardiografo per vedere delle alterazioni dell'onda cose difficili però secondo quella tabella possono farlo i non medici vai pure avanti ecco quindi quello che mi premeva dire adesso se me lo riaccendi era che quello che fa il medico l'atto medico lo può fare solo il medico lo può fare solo il medico c'è una definizione europea di che cos'è l'atto medico che è quello che vi ho scritto qui purtroppo questa l'atto medico oltre alle attività di carattere scientifico di insegnamento formazione eccetera prevede attività di tipo clinico e di tecnologia medica svolte al fine di promuovere la salute prevenire le malattie eccetera ecco questa definizione di atto medico che è una definizione europea in realtà nella nostra legislazione non esiste mentre esiste la è la prossima un articolo del codice penale che è il 348 che prevede l'abuso di professione tra cui anche l'abuso di professione medica cioè che non si può esercitare una professione se non si ha una speciale abilitazione dello Stato quindi la professione medica richiede una speciale abilitazione che è quella che si ottiene con la laurea abilitante per cui chi esercita atti specifici della professione medica incorre nell'abuso di professione e la prossima c'è anche il reato deontologico cioè il per il codice deontologico dell'ordine dei medici è passibile di sanzione chi delega quel medico che delega ad altri non medici gli atti tipici della professione cioè diagnosi e terapia tenendo poi presente dammi la prossima che il medico laureato e abilitato è medico in ogni condizione istituzionale o sociale nelle quali opera cioè quando sei medico iscritto all'ordine sei medico e devi rispettare il codice deontologico e ovviamente rispettare il codice penale e rispettare la professione medica quindi se violi questo esempio delegando ad altri delle azioni che dovresti che dovrebbe fare il medico sei passibile di sanzione disciplinare ecco da Eranti purtroppo vi dicevo nella nostra registrazione non esiste questa definizione nel 2015 c'era stata una proposta di legge dell'onorevole Dincecco un medico abruzzese del PD che aveva fatto una proposta di legge molto semplice che riprendeva la definizione europea di atto medico però la proposta è rimasta nel cassetto della commissione sanità non è mai stata tirata fuori noi come ordine dei medici anche qui a Bologna abbiamo fatto dei convegni per portare avanti la proposta ma non se n'è fatto niente invece dal mio prossimo è stato inserito nottetempo in una legge di stabilità un comma che è abbastanza pasticciato che vorrebbe sottomettere attività medica al volere della politica e per delegarlo ad altre professioni vai pure avanti sicuramente la medicina sta cambiando adesso non voglio più soffermarmi più di tanto su queste cose sicuramente tante cose stanno anche migliorando quello che è l'attività informatica burocratica è cresciuta moltissimo dammi la prossima c'è addirittura uno studio in cui si è visto che il 40% 40-50% del tempo degli studenti di medicina e di specializzanti viene passato sul computer a compilare cartelle a guardare esami tanto che poi anche anche i pazienti le persone cercano su internet cercano sul computer vogliono vedere i propri esami convinti che il loro corpo la loro vita sia quella che si vede nelle immagini negli esami in realtà è qualcosa di molto più complesso è una complessità che deve essere riconosciuta e trattata dal medico purtroppo va avanti ancora il medico vi dicevo sta subendo insomma una crisi notevole in questi ultimi anni c'è un soprattutto nelle strutture ospedaliere pubbliche c'è spesso un desiderio di abbandono della struttura perché ci sono contenziosi ci sono denunce contro i medici ci sono aggressioni violente specie contro le donne soprattutto il 75% ci sono una miriade di provvedimenti disciplinari ci sono ore di lavoro non non retribuite che vengono comunque regalate quindi si sta un po' cercando di disaffezionare il medico dammi la prossima adesso concludo ho detto tante cose e tante altre se ne potrebbero dire comunque quello che volevo il mio messaggio vuole essere questo che la professione del medico richiede una come tante altre professioni però io conosco questa faccio questa la formazione del medico richiede una formazione lunga e impegnativa dove bisogna mettere insieme delle conoscenze teoriche scientifiche delle conoscenze tecniche delle conoscenze legislative abbinate a delle abilità pratiche io faccio il chirurgo ce ne ho messo prima di poter fare in prima persona degli altri in più ci vuole l'esperienza esperienza che non la puoi studiare da nessuna parte ma te la puoi solo fare quindi è un lavoro complesso il lavoro di cura così come è complessa la salute di ogni persona e questo lavoro necessita di una formazione per i medici tenendo presente comunque che l'attività sulla salute delle persone è un'attività che il medico comunque non può fare da solo ma necessità della collaborazione con tante altre figure il dottor bagnoli parlava del territorio è fondamentale soprattutto tornando quindi al nostro discorso che è l'argomento del convegno di oggi la collaborazione con le altre figure sanitarie professionali gli infermieri gli infermieri del territorio i caregiver l'assistente di fiducia che possono collaborare e possono sorvegliare il paziente io vi faccio un esempio il medico di medicina generale può sì andare a visitare il paziente fragile a casa prescrivere le cure fare diagnosi però poi il controllo della terapia chi lo può fare che il paziente assuma le medicine quando e come deve farlo controllare i parametri controllare e poi comunicare al medico e qui è importante il ruolo dell'infermiere del territorio il ruolo dei caregiver comunque queste figure però non sono intercambiabili quindi ognuno deve fare il suo compito il medico deve fare il medico l'infermiere l'infermiere eccetera questo è comunque quello che prescrive la legge italiana se poi si dovrà fare diversamente ogni tanto c'è qualcuno che fa delle sparate tipo ma cosa ci vuole per fare una puntura cosa ci vuole non è la puntura è tutto quello che ci sta dentro al farmaco la scelta eccetera ma questi sono i nostri politici quindi queste figure non sono intercambiabili se si devono se devono essere intercambiabili lo si dovrà fare a livello politico magari cambiando le leggi nazionali cambiando i percorsi di formazione però attualmente con questi percorsi formativi il medico è solo l'unico titolato a fare l'atto medico grazie scusateci ho superato mi piace soltanto sottolineare un passaggio del dottor Lumia quando ha detto che le figure non sono intercambiabili purtroppo noi vediamo nella pratica che fanno fare all'inferniere quello che dovrebbe essere fatto dal medico e fanno fare all'os quello che dovrebbe essere fatto dall'infermiere questo succede purtroppo nelle strutture residenziali che hanno portato alla luce casi eclatanti di decessi di anziani che sono morti con il covid ci dice ma anche perché ci sono state delle negligenze e tuttora queste negligenze persistono nelle strutture residenziali psichiatriche ed è un vero dramma perché anziché poter recuperare il malato si cronicizza con altre complessità comunque non vado oltre ora do la parola alla dottoressa Pasetti mi sta particolarmente a cuore perché tra l'altro è stata una collaboratrice di questo interessante libricino appunto lo pubblicizzo zero conflitti di interessi dottoressa la sanità che vogliamo è veramente interessante ed importante soprattutto ci sono dei passaggi fondamentali la tutela del servizio sanitario nazionale ed è una preoccupazione che a noi sia di diritti senza barriere che di medicina democratica è la nostra bandiera la dobbiamo difendere questa bandiera del servizio sanitario nazionale che è in pericolo è in pericolo perché è costantemente boicottato la sanità pubblica come? perché le lungaggini per poter effettuare degli esami clinici lungaggini appunto per visite specialistiche e tutto il resto non solo ma anche i servizi stessi non sono all'altezza di quello che ci si potrebbe aspettare non vado oltre a lei dottoressa la parola tra l'altro riveste un ruolo piuttosto interessante e anche molto impegnativo è responsabile di un servizio psichiatrico di diagnosi cura quindi si potrebbe dire restando appunto con una terminologia ora molto in voga purtroppo a causa della guerra che lei ha al fronte ha a che fare con dei pazienti che sono proprio in crisi sono le situazioni più problematiche sia come gestione ma anche per poter seguire adeguatamente il malato a lei dottoressa e la ringraziamo particolarmente per aver accettato il nostro invito come del resto faccio tutti perché è importante la vostra presenza ma se non avessimo avuto l'apporto dei relatori questo incontro non si poteva assolutamente fare e vi assicuro che sono qui non per l'autocompenso che non avranno e questo a maggior ragione dimostra appunto la loro attenzione e sensibilità e vi invito tutti a fare un caloroso applauso ai relatori grazie è imbarazzante intervenire dopo tutta questa presentazione comunque ci provo lo stesso io parto da una cosa che non c'entra niente sull'argomento di oggi ma una notizia che ho appena letto oggi e che ci dice lunga ce la dice lunga su che persone siamo in che società viviamo e come sono organizzati i nostri servizi socioassistenziali questo succede in una città del centro Italia madre e figli disabili morti in casa di fame e di sete perché il padre era stato stroncato da un malore allora lo dico da medico morire di fame e di sete non è una cosa che avviene nell'arco di uno o due giorni a meno che non ci troviamo di fronte a delle persone particolarmente defedate quindi immaginare che due persone disabili quindi forse due persone che avevano diritto ad avere un rapporto di una certa continuità con qualunque servizio socioassistenziale ce ne mettiamo dentro tutti mettiamo dentro la sanità e mettiamo dentro i servizi sociali onestamente mi fa caponare la pelle e mi fa anche dire che nella nostra regione abbiamo molte molte difficoltà ma dobbiamo anche renderci conto che esiste esistono realtà molto molto peggiori della nostra e questo deve da un lato renderci orgogliosi di quello che come cittadini e professionisti riusciamo a fare e anche della volontà con cui difendiamo quello a cui abbiamo diritto ogni giorno testimoniando anche solo con la nostra semplice presenza quanto quello che viene scritto sulla carta a partire dalla Costituzione in poi è importante e riguarda la salute è un bene importante è un bene che riguarda tutti noi e tutti noi come cittadini abbiamo il dovere prima ancora che il diritto di non voltarci dall'altra parte e di continuare ad organizzare promuovere iniziative come quelle di oggi un'altra cosa che leggevo era poi passo alla mia relazione ma la posso allungare e accorciare come voglio quindi non è un problema non sarà particolarmente lunga quasi due anni di attesa per una mammografia è veramente un peccato insomma sicuramente il covid ha di molto 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 peggiorato una situazione che già era in crisi dottor Lumia credo che abbia illustrato molto bene alcuni degli aspetti che ci hanno portato a questa crisi trascuratezze che la politica ha avuto nei confronti del servizio sanitario nazionale ma anche trascuratezze che noi cittadini abbiamo avuto perché noi abbiamo cominciato appunto a denunciare questa situazione se non 20 15 anni fa ma nessuno ci ascoltava e nessuno ci ha ascoltato fino a quando non siamo arrivati a questa situazione drammatica adesso è il momento che tutti quanti operatori della sanità e cittadini facciamo un patto perché ci aspettano almeno 3 o 4 anni molto duri prima di arrivare a colmare questo gap e in questi 3 o 4 anni può succedere di tutto una privatizzazione particolarmente spinta il privato non è il male assoluto però il privato è qualcosa che solo alcuni si possono permettere ed è qualcosa anche che non sempre è automaticamente legato alla qualità perché mentre il pubblico ha il dovere di accreditarsi e quindi di rispondere secondo determinati criteri alla qualità dei servizi che eroga la stessa cosa non viene chiesta al privato quindi ci saranno dei sacrifici da fare da parte di tutti da noi professionisti e da parte anche di voi cittadini capire che ci sono delle cose che al momento riteniamo dei diritti acquisiti e che forse invece per un po' di tempo lo saranno un po' di meno capire che meglio impariamo ad usare i servizi di emergenza e urgenza e mi spiace ma torno a parlare del problema del pronto soccorso e meglio sarà per tutti il pronto soccorso non è una cosa che io devo avere comoda sotto casa per andare se mi sono slogato una caviglia il pronto soccorso è quella cosa che mi deve garantire la vita salva nel momento in cui mi capita qualcosa di grave quindi su questo tutti noi dobbiamo veramente fare delle riflessioni però partendo da questo e partendo da quel piccolo libro che Bruna Bellotti ha voluto pubblicizzare che non è altro che l'esperienza di un gruppo di professioniste tutte donne italiane tutte tranne una filosofa un'architetta tutte impegnate nel lavoro nel servizio sanitario nazionale con vari ruoli con vari impegni abbiamo cominciato a chiederci se il modello sociale ma soprattutto il modello di sanità che stiamo vivendo in questo periodo storico è ancora confacente a quelle che sono le nostre esigenze di professioniste e di pazienti oppure se possiamo immaginare anche un modello differente perché c'è bisogno di un modello differente beh in primo luogo perché le persone che curano non sono più le persone che curavano nel momento in cui è stato disegnato questo sistema adesso le donne in sanità rappresentano la maggioranza delle professioniste infermieri ma anche medici non sto parlando della questione del tetto di cristallo che dobbiamo abbattere quindi del fatto che ci sono più direttori uomini di direttrici donne onestamente quello non è un problema perché il problema è il modello non è il ruolo che tu rivesti se anche riempiamo tutte le poltrone di donne ma se queste donne continuano a lavorare secondo paradigmi che sono i paradigmi di un sistema produttivo fordista noi non riusciamo a chiamarlo in altro modo che si basa sull'efficienza io devo produrre delle prestazioni non devo curare delle persone allora questo sistema fordista io credo che soprattutto negli ultimi vent'anni stia facendo vedere quali sono le sue magagne perché se io valgo per il numero di prestazioni che ho fatto non ha importanza la qualità di quello che io ci metto dentro ebbene allora è a questo sistema che noi abbiamo la necessità di guardare con occhi critici e di immaginare qual è la sanità che vogliamo non la sanità che vorremmo ma proprio quella che vogliamo che vogliamo oggi che attraverso l'attenzione delle persone che ci lavorano e qui mi collego al collega che prima parlava della salute dei lavoratori anche chi lavora in sanità è un lavoratore allora se in sanità abbiamo impegnato come figure professionali messe tutti insieme il 70% sono donne noi dobbiamo avere attenzione a questo che cosa vuol dire avere una donna che lavora in un qualunque ambito significa creare le condizioni perché tutto quello che è specificamente femminile dall'avere dei figli ad occuparsi anche della famiglia ad occuparsi degli anziani che sono ancora cose che fanno prevalentemente le donne forse un giorno non sarà più così ma per adesso è così soprattutto nella nostra sanità questo presuppone che ci sia un'organizzazione del lavoro che garantisce il fatto che nel momento in cui una donna è a casa in maternità e fa del bene all'umanità tutta perché ricordiamoci che siamo in Italia soprattutto il secondo paese più vecchio al mondo il secondo paese che non è in grado di avere figli allora se io ho una professionista che giustamente legittimamente rimane a casa per avere dei figli io non posso né mobbizzare lei per una scelta che è una scelta di vita e normale né penalizzare i colleghi che rimangono il che significa che non sempre uno vale uno uno a volte può valere 0,75 proprio perché nell'altro 0,25% del suo tempo fa qualcosa che è vitale per la sua vita per la sua famiglia ma anche per tutta la società la stessa cosa è la difesa del diritto ad esempio che viene quotidianamente messo in discussione alla 104 faccio un esempio così a caso uno ha una 104 perché non sta bene lui o perché si deve occupare di un familiare e sulla base di questo deve diventare il lavativo del sistema allora perché diventa il lavativo del sistema diventa il lavativo del sistema semplicemente perché il sistema non ha pensato di costruire ed organizzare il lavoro sulla base di questi bisogni che sono bisogni sacrosanti che abbiamo ottenuto con difficoltà e che non dobbiamo permettere a nessuno di portarci via allora con queste colleghe abbiamo appunto deciso semplicemente di dividere tutta una serie di esperienze e tutta una serie di proposte che possano portarci proprio a ribaltare il paradigma che noi stiamo dando per scontato che un ospedale può funzionare solo perché tutti sono presenti alle 8 del mattino che funziona solo perché tutti passano un sacco di ore in ospedale non tutte necessariamente da passare lì perché molto del lavoro che fai lì te lo potresti fare tranquillamente a casa tua o in uno studio in una biblioteca o da qualunque altra parte non portando più a niente a nessuno perché siamo ancora abituati ad avere un'organizzazione del lavoro con questa struttura verticistica in cui non si può collaborare gli uni con gli altri in equip che sono delle equip che quando provi a farle funzionano benissimo perché è chiaro chi ha la leadership perché la leadership ce l'ha quello che riesce ad averla e ce l'ha per le idee che porta non certo perché gli hanno messo in testa un cappellino o un nome o una targhetta fuori dalla porta e perché in questi gruppi si attenti ai bisogni di tutti se tu riesci a realizzare una situazione di questo tipo io ve lo garantisco riesci anche a realizzare una capacità di cura migliore perché è una capacità che parte da un occhio umano e continua ad avere un occhio umano anche sull'esterno a nessuno serve avere un medico un infermiero un os qualunque cosa sia che viene a lavorare arrabbiato con la testa altrove perché a casa dei problemi che dovrebbe poter risolvere non lo può fare ecco io credo che insieme ai miei colleghi ovviamente crediamo che questi siano problemi che debbano essere affrontati e che debbano anche poter trovare una soluzione per fortuna le nuove generazioni le persone più giovani di me hanno un'attenzione diversa alla qualità della vita al tempo libero al fatto che se siamo persone felici lasciatemi usare questo termine forte possiamo essere anche dei professionisti felici tutto questo parte appunto da questo gruppo di donne e vi saluto dicendo una cosa molto molto semplice che ho detto alle mie colleghe anche un paio di giorni fa cioè io non credo che noi siamo migliori degli altri perché siamo delle donne e abbiamo quindi qualcosa di diverso da insegnare però pensiamo anche che possiamo essere delle donne migliori nel momento in cui o abbiamo innato o acquisiamo la consapevolezza del ruolo che noi abbiamo all'interno della società il ruolo che abbiamo all'interno della società è anche quello di portare la nostra visione delle cose e quindi pretendere non solo perché siamo maggioranza ma perché siamo parte di questa società anche un ascolto a quelle che sono le proposte che noi diamo grazie prima di passare la parola alla dottoressa Firao se permettete proprio visto che ho amato tanto questo libricino leggerei un passaggio che si attacca perfettamente a quello che diceva ora la dottoressa Pasetti per il bene dei cittadini delle lavoratrici e dei lavoratori è necessario affrontare con forza il problema della perdita di appetibilità della sanità pubblica per riconsegnare alle cure l'adeguato valore e giungere a un sistema che con le giuste risorse trattenga le migliori professionalità che il sistema pubblico ha formato per affrontare la più grande sfida degli ultimi anni per la salute pubblica ecco qui c'è un passaggio fondamentale che il sistema pubblico ha formato quindi noi contribuenti abbiamo partecipato alla formazione di questi medici che purtroppo a volte il sistema pubblico delude e sono quelli come dimostra quello che è successo al pronto soccorso Cardarelli a Napoli e il dottor Fierro proviene proprio da quella città appunto ce ne sono parecchi che se ne vanno dal sistema pubblico e sono una perdita anche per noi contribuenti grazie dottoressa Pasetti ora passo la parola alla dottoressa Fierao che è un giudice tutelare del tribunale di Torino un ringraziamento particolare come ho già detto all'inizio ora lo rafforzo le dobbiamo moltissimo dottoressa perché lei non mi ha mai visto e la ringrazio ancora di più perché ha riservato appunto una fiducia nella nostra richiesta di partecipazione e le siamo molto grati a lei la parola dottoressa buongiorno a tutti grazie per avermi invitato parlo dopo due medici e che di cui ho percepito anche le difficoltà e visto che stiamo parlando alla cittadinanza secondo me volevo partire con un invito proprio noi italiani siamo per per abitudine pronti un po' a criticare a criticarci e non ci rendiamo conto che invece abbiamo delle cose che diamo per scontate che sono molto preziose una di queste è il sistema sanitario nazionale un'altra è anche il nostro ordine giudiziario noi non ci rendiamo conto pensiamo sempre che dalle altre parti sia meglio sia tutto fatto in maniera diversa e funzioni tutto meglio perché noi facciamo le cose un po' così e invece secondo me su questi due punti non è assolutamente vero noi andiamo in America dove è tutto privato e tu se non hai l'assicurazione muori nel corridoio che per noi è una cosa neanche immaginabile perché noi non ci siamo abituati e noi con appunto con delle politiche non lungimiranti abbiamo pensato di fare come gli americani tagliare di qua tagliare di là e ci ritroviamo adesso a dover rincorrere uno standard che noi avevamo meglio di altri stessa cosa con le nostre sul sistema giudiziario abbiamo un sistema che avrà tutte le sue pecche tutto quanto ma è migliore di tanti altri perché non è per formazione assoggettata a uno degli altri due poteri politici poteri dello Stato fatta questa premessa vediamo che anche nel caso che ci riguarda cioè gli istituti a tutela delle persone tragiche noi non siamo messi così male dobbiamo imparare a usare le risorse che abbiamo al meglio senza farci prendere dalla deriva della critica dalla deriva che anche il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno non funzioni perché poi dopo diventa tutto un affare per gli avvocati che fanno gli amministratori di sostegno non è vero non è questo il punto di partenza e nella pratica non è questo l'approccio che ha il giudice tutelare noi dobbiamo pensare che con questi istituti noi abbiamo cercato di superare anche secoli di pregiudizi cioè noi con il codice del 1940 quindi non con quello del 1800 non è così tanto tempo fa abbiamo superato un parallelismo forte cioè che il cieco e il sordo dovessero per forza fin dalla nascita avere uno strumento di tutela giuridico quindi non poter essere pienamente abilitati a operare nel nel mondo sociale nella società eppure il cieco e il sordo hanno una malfunzionamento fisico che può non avere anche nessun riflesso sulla loro individualità e una volta superate con le modalità che ci sono a disposizione avendo imparato il linguaggio dei segni o avendo imparato a sviluppare meglio gli altri sensi possono essere meglio di me che non ho questo problema quindi i nostri istituti sono pensati per funzionare bene poi ci sono sempre delle derive pratiche che non vanno bene però non dobbiamo pensare che per forza non non possono funzionare l'istituto dell'interdizione che ancora esiste e secondo me nella pratica ancora serve deve purtroppo scontare un pregiudizio sociale il pregiudizio sociale che è l'interdetto nella società perde tutto e che quindi abbia quest'etichetta che lo danneggia prima ancora di tutelarlo o parliamo del vecchiarello che ormai non capisce più niente quindi questa parte di pregiudizio la si può superare oppure in tutti gli altri casi i primi a porsi il problema se chiederlo o meno sono i familiari stessi perché alle volte tutelare può finire con il ferire perché il quando tu devi notificare a questo tuo caro l'atto di citazione lui ancora lui o lei in qualche momento di lucidità capisce legge che tu hai chiesto di toglierlo dal mondo sociale perché è così che viene percepito si è cercato allora non solo di cambiargli nome cioè per me non so forse nella mia esperienza il cambio del nome dello spazzino è stato una delle da detto ecologico da spazzino a detto ecologico è stata una di quelle prove di pulizia dal pregiudizio gli cambiamo nome non è più così qua fortunatamente non si è cercato di fare quello perché potevano cambiare il nome all'interdizione cambiare due regoline e lasciarla praticamente così com'era invece no hanno affiancato un altro istituto perché nel nostro ordinamento ci sono l'interdizione che è fondata sull'abituale infermità di un soggetto e sull'incapacità di provvedere i propri interessi e poi fin dalla sua istituzione di questo codice c'era anche l'inabilitazione che era una forma di tutela diversa e basata sulla maggiore minore gravità dell'infermità che doveva tutelare che doveva curare cioè il soggetto che non era così infermo da meritare da aver bisogno dell'interdizione veniva inabilitato oltre al prodigo e a colui che aveva una problematica di abuso di sostanze tutti questi due istituti erano concentrati anche sull'aspetto patrimoniale della famiglia perché si limitava la sfera di azione del soggetto per salvagradare il patrimonio dell'interesse familiare i poteri del soggetto che sostituiva l'interdetto che accompagnava l'inabilitato sono decisi dalla legge e quindi sono stabiliti sono per tutti uguali la nuova figura che è stata introdotta nel 2004 e che io invito davvero tutti a valorizzare e sostenere ha fatto proprio un cambio di rotta e come tutti i cambi di rotta deve essere assorbito deve diventare parte dell'intimo di voi di noi di tutti perché altrimenti non si riesce a renderlo davvero operativo perché ne stiamo parlando a quasi vent'anni dall'introduzione del 2004 perché anche la sua modalità di attuazione è cambiata molto nel tempo qual'era la grande rivoluzione che faceva che ha fatto e che ha posto in essere l'amministrazione di sostegno si è passato dal problema della malattia malattia vuol dire scelgo questi istituti la legge già mi dice cosa si può fare cosa non si può fare all'opposto passiamo all'accento sul problema gestionale della persona più che sulla patologia e quindi la persona viene indirizzata alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana quindi l'ideonità del nuovo strumento è quella di potersi adeguare a situazioni diverse a dover essere modellato su quell'esigenza questo cambio di prospettiva naturalmente era forte e quindi ha avuto un bisogno di essere introitato da tutti cioè di essere capito capito quali erano potevano essere le possibilità e le caratteristiche del nuovo istituto e così si è incominciato a utilizzarlo all'inizio in maniera molto residuale cioè sembrava la terza categoria l'interdizione quando stai proprio male in abilitazione stai un po' meno male abilitazione quando si hai qualche bisogno e riusciamo a farlo dando due poteri all'amministratore di sostegno man mano si è capita invece la grande capacità di questo istituto di poter far fronte alle esigenze e soprattutto di valorizzare la residua capacità di intendere di volere del soggetto che non serviva solo a superare lo stigma dell'interdizione ma perché evitava quel problema l'interdizione dice al soggetto tu non puoi più operare nella società civile tu hai sempre bisogno di qualcun altro che ti sostituisca l'amministrazione di sostegno ti dice l'opposto tu mantieni la tua capacità di intendere di volere ci sono degli aspetti in cui esprimi la tua fragilità la tua vulnerabilità e noi cerchiamo di sopperire su quelli e quindi di metterti accanto qualcuno che ti possa aiutare in quella in quel frangente naturalmente non possono essere dati all'amministratore di sostegno tutti i poteri che sarebbero di un tutore perché altrimenti si snaturerebbe la funzione stessa dell'amministrazione di sostegno bisogna essere anche in grado di capire quando bisogna fermarsi quando davvero in quel caso c'è bisogno dell'interdizione so che ci sono altri anche esponenti del mondo giuridico che sostengono che invece ormai l'interdizione non serve più bisognerebbe abolirla e basta ma secondo me è un po' una presa in giro perché quando tu arrivi a dare all'amministratore di sostegno tutti i poteri del tutore è solo che non vuoi dire a quel soggetto che non c'è più nulla che lui possa fare e quindi mi sembra solo usare un vestito da carnevale per per non voler guardare in faccia la realtà però l'amministratore di sostegno il primo scoglio su cui si è su cui ha si è ha dovuto impattare per rispetto alla sua potenzialità espansiva è stata il consenso informato cioè la possibilità dell'amministratore di sostegno di dare il consenso a un trattamento medico insieme o al posto del beneficiario eh infatti per alcuni per molti anni anche io ho iniziato ad applicare questa materia nel duemilatredici e ancora allora si diceva che se c'è bisogno delle cure mediche allora bisogna per forza andare sull'interdizione questo anche perché Torino era un po' la roccaforte di questo eh modo di pensare ci sono state diverse brecce fatte sul fatto che ancoravano la possibilità di questo ampliamento ai poteri di cura dell'amministratore di sostegno che sono disciplinati dall'articolo quattrocentocinque codice civile nell'ambito della provvedimenti di presenza eh ma la vera breccia è stata data dalla dall'articolo tre della legge duecentodiciannove del duemiladiciassette sul consenso informato sulle date le disposizioni anticipate di trattamento che mettevano proprio tra i soggetti che potevano dare il consenso informato all'amministratore di sostegno quindi da quel punto di vista da quel punto in poi non c'è stato un appiglio anche normativo per poter dire che la semplice necessità di cure mediche non poteva essere un limite all'amministrazione di sostegno naturalmente dipende sempre anche in questo visto che l'amministratore di sostegno deve essere un vestito fatto apposta sulla persona dipende sempre dalle tipologie di cura medica di cura cui hai bisogno quindi nei nostri decreti di amministrazione di sostegno possiamo dare già dei poteri all'amministratore di sostegno spesso soprattutto nei casi di anziani con una demenza senile li diamo già per gli esami di routine per evitare che debbano fare una domanda apposta in caso di esami del sangue esami delle urine che poi soprattutto in quella fascia di età possono avvenire più spesso essere necessaria più spesso naturalmente per le cure più complesse ci vuole un'autorizzazione ad hoc del giudice tutelare e per le cure delicate il giudice tutelare può anche nominare una commissione medica che gli dia un parere per capire se quella cura sia quella adeguata e che vada bene in quel caso specifico perché comunque mi riaggancio anche a quello che dicevano prima ci vuole collaborazione e imparare a rispettare le diverse professionalità che è un problema non solo dei cittadini verso i professionisti ma anche tra professionisti imparare a sapere che ad un certo punto non posso fare tutto da sola perché ho bisogno di una professionalità che non è la mia l'altra limite che è stato messo all'amministrazione di sostegno è che questo viene mantenuto e l'attualità dell'incapacità cioè non ti posso aprire una procedura di amministrazione di sostegno per quando ne avrai bisogno se tu oggi la rifiuti e sei lucido devo rispettare il fatto che non ci siano i presupposti anche se magari sei affetto da una malattia degenerativa che prima o poi ti porrà sicuramente in una condizione di vulnerabilità o di necessità di tutela ma non posso farlo adesso per poi differente scopriamo il campo da equivoci che possono venire lessicalmente diverso è il caso in cui io che so di avere una malattia degenerativa decida di designare un soggetto che vorrei fosse nominato come amministratore di sostegno per il caso in cui poi ne avrò bisogno anche se non momenti anche che non lo faccia per sicurezza anche se non ho nessuna malattia o magari sono semplicemente una persona previdente o avanti con gli anni che vuole prevederlo questo si può fare anzi è auspicato e viene è una delle cose che noi prendiamo in considerazione prima di valutare la nomina di un soggetto come amministratore di sostegno sapere se il soggetto ha già disegnato qualcuno valutare se questo qualcuno è disponibile è idoneo oppure no l'amministrazione di sostegno è più duttile e più efficace anche in alcune situazioni che hanno bisogno di essere a termine perché per la struttura legislativa proprio istituzionale che hanno gli altri istituti in tradizione in abilitazione non possono essere date a tempo possono essere revocate ma hanno un rigido percorso per darle e un rigido percorso per revocarle l'amministrazione di sostegno invece ha la possibilità di essere decisa anche a termine e io nella mia esperienza mi sono trovata a usare efficacemente questo strumento con soggetti che in quel termine avevano bisogno di sentirsi dire proprio da me che rivestivo questo ruolo di giudice tutelare io credo in te io so che tu ce la potrai fare e io penso che tu abbia bisogno di questo istituto solo per questo tempo e quindi lo dico già adesso ecco mi ero messa la sveglia per non sporare quindi adesso chiudo e due o tre casi sono stati uno recentissimo che proprio ho trovato nell'amministrazione di sostegno a termine la carta vincente secondo me era un ragazzino che nella sua vita già nella viste mille aveva era stato dichiarato adottabile aveva sperato più volte di aver trovato finalmente la famiglia giusta invece era passato di istituto in istituto fino ad arrivare ai diciotto anni arrivato ai diciotto anni si rendeva conto che era stata richiesta l'amministrazione di sostegno per lui dal servizio sociale che si era occupato di lui dal comune fino a quel momento anche perché il comune gli aveva messo da parte tutte le indennità che lui aveva a cui aveva diritto quindi aveva un gruzzoletto di ventimila euro e quindi diceva ha bisogno di quella parte che fanno i genitori tra i diciotto anni in su cioè non è che appena tu compiti i genitori ti mandano fuori dalla porta chiave in mano questo è il tuo conto vai e rovinati con le mani tue ti insegnano ancora qualche cosa e quindi io lì in quel caso lui stava già facendo un programma già il comune la comunità in un alloggio comunità e aveva anche questa cooperativa che gestiva questi alloggi gli stava insegnando anche a fare la spesa una cosa che forse avrei bisogno anch'io che non compro quello con cui ho bisogno e poi vedo quanto spendo ma ho questo budget e vediamo quali sono le esigenze da sopperire e in questo caso io gli ho dato una messa in sostegno a termine fino ai suoi 21 anni con già messe delle passaggi con dell'apertura a una maggiore autonomia nel caso avesse dovuto gestire non un reddito di cittadinanza ma un reddito da lavoro e queste amministrazioni a termine segnalo e chiudo sono risultate molto utili anche per le l'alimentazione quindi quando c'è un percorso che anche dal punto di vista medico viene incanalato in una temporaneità e quindi è bene dare fiducia a questi una cosa poi davvero chiudo ho letto in alcuni articoli che ci avevamo mandato dell'associazione che poi parleranno dopo delle critiche sul fatto che vengano scelti amministratori di sossegno fuori dalla famiglia e quando ci sia conflitto familiare ma non conflitto tra il soggetto che il beneficiario vorrebbe e il beneficiario stesso quindi i professionisti che noi scegliamo vorrei chiarirlo perché non campano con quello che noi gli liquidiamo come coindennito tante volte si pigliano delle rogne ben superiori a quello che dovrebbero tante volte siamo noi che abbiamo bisogno della figura professionale perché ci troviamo dei soggetti che non hanno ancora neanche chiesto tutto quello che potrebbero avere dal nostro stato sociale e l'indenità di accompagnamento e la pensione di maledità e questi e quest'altro non sanno neanche cosa sono abbiamo bisogno di un professionista che li tuteli anche da questo punto di vista e tante altre volte mettere una figura terza in una famiglia in cui c'è un conflitto e non importa chi riguardi serve a abbassare i toni del conflitto e ultimo caso in cui sicuramente serve una figura terza sono alcuni soggetti che hanno bisogno di avere un esterno a cui riferirsi parliamo del figlio tossicodipendente rispetto al padre o alla madre devi scardinare quel brutto legame che si è creato in questi negli anni della tossicodipendenza e mettergli la deferenza di un soggetto terzo e magari lo ascolterà e magari riuscirà a fare le stesse cose che gli dicevano i suoi familiari in maniera diversa e più autonoma e quindi tante volte mettere il professionista è garanzia di successo non è una mercificazione della funzione grazie mille arrivederci grazie dottoressa però ci sono dei passaggi che ora soprassiedo ed invito agli avvocati che interverranno ora sicuramente avranno colto comunque io dopo mi riservo per favore di mettere in evidenza perché la realtà di Torino sarà certamente come lei l'ha descritta non dubito però noi abbiamo contessa di realtà nazionale che è tutt'altro tra l'altro ho qui due relazioni una dell'UNASAM l'UNASAM per chi non sa che cos'è è un'associazione nazionale che raggruppa varie realtà che sono presenti in tutte le regioni d'Italia ed hanno presentato una relazione a tutti i presidenti dei tribunali d'Italia mettendo proprio in evidenza le lacune dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno non solo ma c'è un'altra associazione diritti alla follia che pure loro hanno messo in evidenza non bastasse io stessa sono vittima di un tutore e quindi si dovrebbe appunto vedere la cosa insieme sia il tutore che l'amministrazione di sostegno da rividere insomma ci sono delle figure adesso non sendo oltre quanto è meglio che dia la parola agli avvocati ora l'avvocatessa Colombini del foro di Brescia ecco mi preme mettere in evidenza oh santo cielo chissà perché faccio sempre questa confusione mi perdoni avvocatessa del foro di Modena è già la seconda volta si vede che lei dottoressa avvocatessa dovrà trasferirsi a Brescia ecco appunto a Modena sta molto bene però anche Brescia allora vorrei mettere in risalto punto sia la professionalità che tutti gli avvocati sostengono un esame certo non facile per poter esercitare la professione ma lei ha una marcia in più nel senso che ha questa sensibilità e questa attenzione verso le persone fragili a lei avvocatessa colombini del foro di Modena grazie e io un cronometro per non sporare troppo allora tendenzialmente io sono d'accordo con le parole del giudice nel senso che tendiamo come italiani davvero a volte a svilirci quando in realtà quello che ci contraddistingue è davvero il nostro cuore e il nostro cuore ci consente di mettere in tutto ciò che facciamo un impegno tale da distinguerci a mio avviso da tantissimi altri paesi quello che però è l'oggetto del mio intervento naturalmente non sono tutte rose e viole questo nessuno mai lo ha voluto dire ci sono cose che riescono bene ci sono altri invece casi che non riescono affatto bene e che provano provocano alle persone e alla famiglia in generale poi sarebbero da vedere caso per caso un dolore grandissimo perché quando si va quando ci si rivolge ad un familiare che può essere una madre un padre un figlio un fidanzato un marito e questa persona che viene colpita dalla fragilità ci viene sotto un certo qual modo portata via quello che noi proviamo è davvero un qualche cosa distraziante per cui trovo che questo convegno sia dal contenuto estremamente nobile molto positivo anche questa tavola rotonda con la parte medica della sfaccettatura e ahimè sono incaricata di parlare di un caso un caso per tutti che è vero non non costituisce la regola però purtroppo bisogna dare voce anche a quella parte di casi che non hanno visto un felice esito purtroppo con la nomina di soggetti terzi quali amministratore di sostegno il mio caso riguarda la figura dell'amministratore di sostegno quindi mi rivolgo a quello e che purtroppo ha creato e sta tuttora creando una sofferenza molto grande in primis nel soggetto che la normativa che il legislatore nel momento in cui ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno voleva tutelare e alla famiglia e alle persone che amano questi soggetti e ci può sembrare lontano ma in realtà tutti noi possiamo avere un caso di questo tipo vicino per cui benvengano iniziative di questo tipo ora io mi riferisco quando parlo al caso per tutti al caso del signor Carlo Girardi io credo che sia un nome abbastanza noto credo che sia davvero una persona che rimarrà nella storia e che ci aiuterà ci aiuterà tutti legislatore avvocati medici persone dal panettiere al pasticcere a tutti perché il signor Carlo è innanzitutto una persona un uomo che io stimo stimo tanto perché in un'intervista fatta alle Iene per cui non dico nulla che già voi non sappiate che non è già stato reso pubblico ha dichiarato che quello che voleva il signor Carlo era dare una risposta a quelli che erano i suoi bisogni dell'anima non a quelli materiali per cui è rimasto coinvolto in un sistema che dicendo di volerlo tutelare perché era particolarmente generoso dovuto ad un patrimonio che si è ritrovato alla nascita chi ha sostenuto di tutelarlo perché qualcuno in ipotesi lo stava raggirando lo voleva circuire e voleva approfittare di quest'ampia generosità alla fine gli ha tolto la libertà nasce vicino a Lecco il 4 dicembre del 1930 in una famiglia giata e se ne rende conto immediatamente dichiara apertamente di avere dei principi francescani che lo portano a curare l'anima come dicevo e non le ricchezze le sue ricchezze per lui sono fonte di gioia nel momento in cui le condivide con gli altri il mondo in cui viviamo non è perfetto non è perfetto in Italia e nessun altro paese del mondo per cui è naturale che i soggetti che si rivolgevano a lui potessero anche essere non in totale buona fede questo è certo però il signor Carlo era felice nel fare questo era una sua scelta usava ciò che era proprio il proprio patrimonio e dava un senso alla sua vita ha iniziato dando al suo paese nativo un parco un parcheggio un defibrillatore ha donato ad una cara amica un'abitazione a lui non serviva e la signora invece era indigente e la comica è che tutti noi insegniamo ai nostri figli io per prima a essere generoso a dare e dimenticare in realtà questo signore in questo in questo caso specifico è rimasto purtroppo vittima probabilmente di questo grande patrimonio da prima dicevo gli è stato nominato un amministratore di sostegno in questo caso è stata la sorella a temere per il proprio fratello che gli si passi tutto il patrimonio per cui ha portato all'attenzione dell'autorità dell'autorità scusatemi giudiziaria il problema che così pareva ci fossero sette soggetti di nazionalità non italiana che si stavano approfittando di lui lui ha reso delle interviste ha detto di essere consapevole che le persone si rivolgevano a lui per quel motivo cioè per avere un aiuto economico ma di trovare un piacere estremo nell'aiutare le persone e chiedendo di essere rispettato in questa scelta gli è stato nominato un amministratore di sostegno quindi dobbiamo dare anche fiducia e sapere che se è stato nominato vuol dire che i presupposti c'erano abbiamo un ottimo corpo di magistrati pertanto se questo è stato fatto sicuramente i presupposti c'erano però un qualcosa è sfuggito è sfuggito perché il signor Girardi è stato limitato all'eccesso nella sua libertà tanto che per mesi ha rivolto all'amministratore di sostegno continue e continue richieste di potergli svincolare mille euro mille euro perché? perché lui voleva continuare nella sua attività agricola tagliava il fieno portava il fieno al riparo voleva dare da mangiare agli animali voleva continuare a poter fare la sua attività e se la data di nascita è classe 1930 io chapeau al signor Carlo un novantenne che ancora è parte integrante di una collettività che lavora che produce e che mi dà un esempio così bello veramente tanto di cappello però purtroppo si è trovato a non poter più utilizzare nemmeno il proprio patrimonio solo a fatica dopo mesi e mesi e mesi gli furono svincolate una prima parte di somme e fin qua uno dice brutto una brutta esperienza però in fondo stiamo parlando di denaro e alla fine è riuscito comunque a comprare il carrettino per portare il fieno nel fienile da qui però purtroppo ribellandosi al sistema e chiedendo dei resiconti dettagliati pare e uso il condizionale perché ovviamente ancora la magistratura non ha messo il punto fine su questa situazione però pare che ci siano stati dei bonifici o comunque dei pagamenti non autorizzati dal signor Carlo che non risultavano e non erano stati diciamo autorizzati nemmeno dal giudice tutelare perché l'amministratore di sostegno non è da solo ed è sottoposto anch'esso ad una forma di controllo che è giusto che ci sia in questo caso però era accaduto si stava parlando di anche di un acquisto di una bicicletta da donna si stava parlando di tante altre cose per cui l'amministratore di sostegno in quel caso a fronte di una specifica denuncia di questo signor Carlo che grazie al cielo avendo anche dei mezzi economici ha alzato la voce e è riuscito a fare delle denunce attraverso la nomina di un proprio avvocato di fiducia in realtà si è trovato catapultato in una situazione se vogliamo ancora peggiore perché da prima aveva forme di limitazione alla gestione del proprio patrimonio in un secondo momento a seguito di questa denuncia fatta di malagestio dell'attività dell'amministratore di sostegno che era in incarico in quel periodo si è trovato con una nuova persona che avrebbe dovuto tutelarlo ed affiancarlo in quella parte di residua capacità che lui comunque aveva di intendere di volere era molto sveglio tanto che le perizie fatte avevano accertato che aveva la prima capacità di intendimento si è trovato a relazionarsi con un altro amministratore di sostegno e gli è stata successivamente tolta anche la libertà nel senso che è stato ritenuto chiedo scusa che l'abitazione fosse inadeguata nella quale lui viveva si sono presentati nella sua abitazione l'amministratore di sostegno la polizia l'ambulanza e anche un medico e lo hanno portato con la con direi il prospetto di una visita cardiologica in realtà di lì a poco è finito in una RSA una struttura dalla quale non è riuscito ad uscire nonostante non ci fossero così pare e ripeto uso il condizionale perché la magistratura sta facendo ancora delle indagini ma personalmente quando ho visto il servizio delle iene ho sentito parlare il signor Carlo la voce gli occhi ho avuto davvero delle emozioni enormi e un dispiacere esagerato nel vedere una persona così sofferente non si capisce bene esattamente come ma il signor Carlo non è più riuscito a tornare nella sua abitazione ritenuta per alcuni non adeguata e la mia domanda è ma non adeguata per chi per che cosa cioè il signor Carlo si trova in una struttura che ha un costo di gestione abbastanza importante non ne posso sapere ovviamente con certezza però solitamente sappiamo che queste strutture vanno da un minimo di 1500 euro a un circa 3000 euro al mese e facendo un conto moltiplicando un conto di una retta mensile per un anno l'uscita è importante un'uscita annuale di 30.000 euro ipotizziamo 20 30 40 poi dipende ma quest'uomo perfettamente in grado di intendere di volere la cui colpa è stata quella di essere generoso a 90 anni e di trarre estremamente gioia e un senso di dignità di appartenenza alla società nel dare agli altri si trova privato della sua libertà del suo patrimonio e continua comunque questo patrimonio che si voleva tutelare a ridursi 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 a fronte di una persona che di fatto è infelice ora è rappresentato da questo avvocato che ha fatto un ricorso a Strasburgo per la tutela dei diritti dell'uomo vi dico la verità ho provato a cercare se ad oggi per potervelo dire perché effettivamente è la storia di un uomo che ha fatto stare male tante persone ha sensibilizzato tanto l'opinione pubblica e non è il solo io cito lui perché ormai è pubblico ma ce ne sono anche altri tanti di personaggi oltretutto pubblici che sono già stati ricevuti di cui tanto si è parlato nei salotti televisivi e che noi ovviamente non possiamo sapere esattamente quello che c'è dietro ma una certezza c'è un dolore enorme delle persone che si sono sentite strappate via la persona che amano e questo per me viene più di qualsiasi altra cosa qualsiasi altro aspetto patrimoniale o di diversa natura poi certamente come diceva il giudice ce ne sono ci sono professionisti bravissimi io ovviamente sto parlando di questo per dare un punto di vista e anche una finestra su quegli aspetti che di fatto non sono andati proprio per il verso giusto come il legislatore voleva io cito il professor Paolo Cendone è veramente un professore fantastico lo conoscono tutti ha fatto tantissimo per l'amministratore di sostegno per questa figura che doveva essere l'angelo custode di queste persone e che appunto è nata proprio perché nella prassi il tutore era risultato essere una figura troppo limitante si sostituiva il soggetto che aveva questa fragilità ma naturalmente un soggetto con una fragilità va aiutato è nostro dovere ed è sancito dalla Costituzione la Repubblica ha l'obbligo di aiutare le persone e fare sì che la loro fragilità non sia un elemento per lasciarli in disparte ha l'obbligo di creare le condizioni perché possono comunque essere libere e possono emergere in base alle loro caratteristiche e a tutto quello che è la loro personalità e quindi credo che sia stato fatto tanto ma qualche cos'altro si può fare probabilmente ci sarebbero forse paletti maggiori da mettere per controllare maggiormente affinché certe cose non accadano e il parlarne è una cosa assolutamente positiva perché c'è chi dice che una persona non può cambiare il mondo in realtà io non ne sono assolutamente convinta credo che basta una persona per cambiarlo perché questa persona cambierà la vita di un altro che se a volte potrà essere sensibilizzato e cambiare la vita di un altro e poi di un altro e poi di un altro affinché si diventi un gruppo coeso quindi scusatemi sono anche un po' di emozione nel parlare di questi casi ma come diceva la signora Bellotti sono molto molto sensibile in questo senso e credo che l'angelo custode che si è voluto disegnare che il legislatore voleva creare quando ha istituito la figura dell'amministratore di sostegno sia sì in tanti casi stata portata a termine ma purtroppo quando capita anche se sono due, tre, quattro cinque casi dietro c'è tutto un entourage familiare di persone che ne vengono gravemente danneggiate solitamente sono avvocati gli amministratori di sostegno sono persone che devono interfacciarsi con il giudice devono sapere come muoversi all'interno di quella che è anche una burocrazia e ripeto ci sono colleghi estremamente bravi è vero è previsto un'indenità non una forma di pagamento anche se di fatto gli amministrati con i patrimoni maggiori sono coloro che da un punto di vista statistico ahimè sono stati sulle cronache perché amministratori di sostegno infedeli hanno svuotato le casse degli amministrati ma questo non perché il sistema lo consente ma perché sono state persone che hanno commesso dei reati e questo lo può commettere l'italiano lo può commettere il francese la persona umana può essere tanto positiva quanto negativa io per venire da voi sapendo di dover fare riferimento anche a questi casi che hanno dato la prova che la figura dell'amministratore di sostegno va va riformata ma questo in tutte le cose bisogna sempre cercare di migliorarsi non è una critica a nessuno è un dato di fatto dovesse capitare a me è questo che vorrei vorrei poter avere la possibilità di scegliere ritengo che un soggetto che mi mi si affianca mi fa da angelo custode perché io sono in difficoltà e mi dia una mano da un punto di vista economico allora lo tollero dico anche grazie ma se uno mi toglie la libertà di stare con le persone che amo e mi chiude o mi impedisce di vedere parlare ed essere parte di una realtà che per me è importante non lo vorrei mai quindi diamo assolutamente spazio alla persona una persona che ha una capacità di intendere e di volere che può essere residuale in più misura ma deve assolutamente essere ascoltato in primis avevo fatto tutto un elenco di tanti articoli di giornale che parlavano di città italiane in cui l'amministratore di sostegno si era approfittato dei propri amministrati non ho più il tempo di farlo però vi invito a guardarci e di fare anche una considerazione l'amministratore di sostegno inizialmente appena entrato in vigore è stato visto con grande interesse piano piano ha dato anche risultati positivi perché i depositi di queste richieste di sottoporre ad amministratore di sostegno familiari e quant'altro sono sempre state maggiori però c'è un qualcosa che dobbiamo fare anche l'associazione di diritti senza i diritti alla follia mi chiedo scusa ho letto tanto di loro e so che sono coinvolti in questo convegno stanno cercando davvero di sensibilizzare a fare qualcosa in più prendendo come spunto eventuali delle figure che sono presenti in altri paesi e che credo che anche noi si debba guardarle prendere riferimento cercare di migliorarsi sempre di più e questo deve essere un incentivo a migliorarsi non criticandoci perché effettivamente ha ragione sono d'accordo con la dottoressa abbiamo davvero un cuore grande come italiani però dobbiamo stare attenti non abbassare mai la guardia e con questo concludo cercare in tutti i modi di fare sì che quello che è l'angelo custode che è nato come l'angelo custode così come Paolo Cendon che è il padre io ritengo principale di questa figura istituzionale di questa figura creata da legislatore non si tramuti in realtà in una sorta di passatemi il termine virgolettato di carnefice angelo custode sì carnefice no sì proprio carnefice no qui bisogna gridarlo proprio a tutti i venti perché abbiamo delle realtà che veramente sono laceranti in preparazione di questo convegno l'avevo indicato questo aspetto come sottotitolo sta diventando invece il titolo principale perché ho ricevuto tante telefonate appunto di lagnanze di familiari anche di diretti interessati tra cui ce ne sono qui presenti in sala che quando avranno finito eh lo spazio appunto degli avvocati darò la parola ora do la parola all'avvocato Trebeschi di Brescia del foro di Brescia è particolarmente specializzato udite udite nei ricorsi delle richieste illegittime da parte di ASL o comuni è considerato il numero uno a livello nazionale lo dimostra appunto i ricorsi che ha vinto in campo nazionale e si deve fare attenzione nei confronti appunto sia delle ASC e degli enti locali quando pretendono dai malati il pagamento di una retta a volte non dovuta a lei avvocato Trebeschi non solo ma a parte questo ma anche una particolare attenzione verso le persone disabili dimostra il fatto la lunga esperienza anche su questo versante grazie a lei avvocato grazie questa presentazione eccessiva ma ringrazio comunque Bruna Bellotti perché credo che ci sia bisogno di momenti come questi di informazione e di formazione perché anche io penso che la legge non sia sbagliata non sia negativa in sé ma purtroppo è nell'applicazione probabilmente anche dovuto al fatto che il fenomeno è diventato enorme perché giustamente laddove l'amministratore di sostegno è un vestito su misura le persone che hanno bisogno di un vestito anche magari di piccole dimensioni sono veramente tante e quindi effettivamente l'amministratore di sostegno adesso viene ha assunto numeri talmente importanti che sicuramente diventa difficile per i giudici tutelare seguirli tutti diventa difficile trovare come nei primi tempi professionisti quando c'è bisogno di un terzo motivati anche umanamente e troppo spesso invece uno nella prassi l'amministrazione di sostegno va spesso a sovrapporsi all'interdizione come appunto diceva prima dottoressa Firrao non dovrebbe essere ma spesso è così in tanti tribunali il decreto diciamo il modello di decreto prevede sostanzialmente una rappresentanza e un potere quindi sostituzione in tutti gli ambiti che vengono specificamente nominati ma abbracciano praticamente tutto e spesso anche i professionisti affrontano questo incarico senza approfondire quello che invece dovrebbe essere il loro ruolo di dare voce a chi non ha voce quindi senza conoscere quelli che sono i diritti della persona che amministrano e quindi troppo spesso avendo un approccio meramente privatistico quindi di mera gestione del patrimonio gestendo questo patrimonio con quella che tecnicamente noi definiamo la diligenza del buon padre di famiglia e abbiamo avuto esempi anche in concreto ma questa diligenza del buon padre di famiglia che normalmente significa semplicemente gestire oculatamente un patrimonio declinata su queste situazioni dovrebbe invece voler dire anche gestire questi beni come farebbe un padre di famiglia cioè cercando le migliori cure cercando la migliore assistenza non spendendo i soldi per lasciarli agli eredi purtroppo questa è la questo approccio che non è ripeto quello che propone la legge ha le radici più profonde in secoli di applicazione in questo principio la dottoressa Firao diceva molto bene prima parlava di di quella che era la situazione anche nei codici precedenti in studio i codici preunitari dove la persona da interdire allora era definita con termini che adesso urtano perché sono usati solo come parole offensive ma l'interdizione era prevista in caso di imbecillità perché così venivano definite le persone con sensibilità oppure per i furiosi così definiti dai codici e si legge chiaramente come la preoccupazione fosse quella non tanto di tutelare la persona ma il patrimonio familiare oltre al tutore il tutore era affiancato da un cosiddetto consiglio di famiglia per cui un certo numero di persone di parenti del ramo paterno un certo numero di persone del ramo materno affiancavano il tutore per dire sì queste spese bene farle oppure no che altro non erano se non i futuri eredi e quindi con un interesse chiaro a non disperdere il patrimonio quindi il caso che ha affrontato dal collega Colombini è emblematico quella era la finalità di secoli di normativa in questa materia che non è però e non dovrebbe essere più l'approccio di adesso perché già il codice del 40 poneva tra le funzioni del tutore prima la cura della persona il tutore per l'articolo 357 del codice civile ha la cura della persona lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni quindi la cura in teoria dovrebbe venire prima rispetto all'amministrazione dei beni che comunque deve essere necessariamente finalizzata a quello al benessere della persona la normativa sull'amministratore di sostegno è ancora più chiara e richiederebbe addirittura un'indagine più approfondita su quelle che sono le aspirazioni della persona perché la normativa dell'amministratore di sostegno l'articolo 410 dice che nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario quando mai vediamo in provvedimenti in richieste di amministratori di sostegno messa in luce l'indagine sulle aspirazioni del beneficiario e questo è un aspetto molto delicato perché in maniera ancora più approfondita la convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità che più o meno è coeva nel senso del 2006 nel riconoscere l'uguale riconoscimento di fronte alla legge di ogni persona a prescindere dalla disabilità quindi l'articolo 12 dice gli stati riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone davanti alla legge e quindi anche l'interdetto non è una meno persona degli altri e quindi gli stati parti dovranno riconoscere che persone con disabilità godano della capacità legale sulla base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell'esercizio la propria capacità legale cioè quello che sarebbe la filosofia e l'approccio dell'amministratore di sostegno dare voce ti do tutti e solo quei sostegni di cui hai necessità ma la disposizione della Convenzione di New York è ancora più forte perché consapevole dei rischi del fatto che il riconoscimento di una tutela legale abbia il forte rischio in realtà nel momento in cui sostituisco la voce del tutore dell'amministratore di sostegno a quella del tutelato del beneficiario che non ci sia più veramente un passaggio dalle aspirazioni dalla volontà dell'amministrato a quello del tutore invece che si conferisca al tutore dell'amministratore di sostegno un potere di fare delle scelte totalmente discrezionali su questioni veramente delicate e allora la norma dice gli stati assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti la volontà e le preferenze della persona che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente indipendente e imparziale o di un organo giudiziario come nel nostro caso questo cioè voglio dire la convenzione di New York è stata ratificata dall'Italia a valore addirittura super costituzionale cioè le nostre leggi devono essere improntate a questi principi e la corte costituzionale ha più volte applicato la convenzione di New York nei vari campi quando è stata richiesta di farlo e allora come è possibile come possiamo che strumenti ci sono per cercare di dare voce a questa volontà a questa aspirazione eccetera allora uno come dicevo è fondamentale la conoscenza dei diritti perché perché spesso anche quando prima dottor Saberlotti diceva rispetto alle richieste che rivolgiamo ai comuni alle as eccetera se non conosco quelli che sono i miei diritti è chiaro che l'amministrazione non sempre tutelerà sempre solo il mio interesse come cittadino e come dovrebbe nel senso che ci sono grandi resistenze anche da parte delle amministrazioni abbiamo comuni che ancora per dire sto facendo ricorsi in questi giorni nei loro regolamenti non hanno ancora applicato l'ISE per dire che c'è da vent'anni e quindi l'amministratore di sostegno deve sapere che cos'è una volta l'approccio era anche rispetto all'accesso ai servizi quasi esclusivamente privatistico io avevo le cure l'assistenza se nella misura in cui me lo potevo permettere oppure c'era un lascito e quindi la carità pubblica o privata mi consentiva l'accesso negli anni trenta abbiamo avuto tutta una serie di norme che prevedevano un primo filtro da parte del comune per cui il comune garantiva il servizio ma poi andava a chiedere ai parenti perché alla fine la persona con disabilità era il problema era la valigia il peso della famiglia quindi da una parte andava a salvaguardato come dicevo prima il suo patrimonio per gli eredi dall'altra tutto quello che era un problema una spesa un costo era in carico della famiglia questa cosa ha segnato la nostra mentalità in maniera pesantissima perché appunto le decine centinaia di ricorsi che abbiamo fatto in questi anni su questa tematica erano proprio per cercare di applicare delle leggi che c'erano come quelle sull'ISE scalfendo una mentalità nella quale invece l'assistenza comunque doveva gravare sui familiari perché comunque è il tuo problema e quindi non potendo in questo poco tempo che ho a disposizione analizzare tutte i diritti tutte le norme che riconoscono i diritti con disabilità vorrei focalizzarmi un minuto su su quella disposizione che prevede che riconosce il diritto a una presa in carico pubblica personalizzata è globale e globale l'articolo 14 della legge 328 del 2000 riconosce alla persona con disabilità di formalizzare una domanda di progetto individualizzato con il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno in carico la persona nelle negli altri nei vari campi la sanità la scuola il lavoro eccetera in modo da fare una cornice che riunisca ogni altro intervento nel senso che spesso invece siamo costretti a bussare alle porte della sanità per la salute al comune per l'assistenza magari per il tal contributo bisogna chiedere alla regione per tal'altro eccetera invece in teoria con questa norma spesso sconosciuta da tanti comuni è possibile chiedere la presa in carico al comune il fatto che ci sia una norma che stabilisce questo diritto ha un'importanza pratica enorme anche sotto il profilo formale nel senso che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che se io formalizzo domanda di progetto di presa in carico il comune ha l'obbligo di rispondere con un provvedimento amministrativo come qualsiasi altra procedura amministrativa un provvedimento amministrativo che in mancanza di specifiche nei regolamenti comunali deve essere fatto entro trenta giorni tra l'altro cosa che è obiettivamente quasi impossibile ma consente nel caso di inerzia comunale di intervenire con il ricorso contro l'inerzia della pubblica amministrazione e quindi di avere da adaltare la nomina di un commissario adatta che faccia il progetto a suo posto la norma prevede di regola che il progetto sia fatto almeno da tre soggetti il comune che ha la regia e che è l'ente poi che adotterà il provvedimento finale l'amministrazione sanitaria la legge parla di intesa con le aziende unità sanitarie locali che poi sono state declinate nelle varie regioni con modalità nomi diversi e poi chiaramente l'interessato l'interessato e per esso l'amministratore di sostegno o tutore eccetera con la possibilità però di coinvolgere anche tutti quegli altri soggetti che possano dare un contributo a questa progettualità e che cosa c'è dentro in questa cornice tutte le prestazioni fatte dagli altri cioè la legge dice nell'ambito delle risorse disponibili il progetto individualizzato comprende uno la valutazione diagnostico funzionale o profilo di funzionamento cioè abbiamo diritto anche a una valutazione specifica del bisogno cioè il servizio sanitario dentro questo progetto dovrebbe dirmi sì queste sono le tue potenzialità questi sono i tuoi bisogni due quali risposte a questi bisogni devono essere date infatti oltre appunto diagnosi funzionale e profilo di funzionamento vanno indicate le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche chiaramente chi la scuola ci va il servizio alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale nonché le misure economiche necessarie per il superamento in condizioni di povertà e marginazione ed esclusione sociale nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare questo è lo strumento che devono conoscere gli amministratori di sostegno per poter andare a confrontarsi a chiedere a cercare e quindi non limitarsi a una gestione ragionieristica del patrimonio ma cercare di garantire la vita più dignitosa con le risorse che uno ha e con quelle che uno può avere che ha diritto di ottenere dalla repubblica ricordiamo per concludere vorrei concludere proprio con quello che è il raffronto tra la definizione di disabilità proposta dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità per cui la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione alla società su una base di parità con gli altri è straordinaria l'assonanza la Convenzione di New York del 2016 l'assonanza con l'articolo 3 della nostra Costituzione che dopo aver sancito il principio di uguaglianza riconosce che l'uguaglianza deve essere anche sostanziale per cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli cioè là si dice barriere qui si dice ostacoli ma chiaramente sono sinonimi di ordine economico e sociale che limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica economica e sociale del Paese e con questo ho concluso e spero di avere dato l'impulso a qualche amministratore di sostegno a volere approfondire un pochino la materia grazie ringraziamo molto l'avvocato Trebeschi ora darei la parola alle testimonianze presenti in sala ci sono persone che hanno fatto un lungo viaggio hanno sostenuto delle spese e credo che abbiano il diritto di precedenza e quindi invito i signori che desiderano intervenire come testimonianza a presentarsi e quindi darei a loro la parola cerchiamo però di limitarci nei tempi perché vorrei mantenere fede a quello che ho detto all'inizio cioè la parola al pubblico è molto importante perché se noi siamo qui intendo come diritti senza barriere non è solo perché è ricorso l'anno scorso il ventennale non è che siamo affezionati alle ricorrenze no è stato fatto prima di tutto per vedere di riflettere insieme come procedere perché purtroppo nel corso di questi lunghi anni dei miglioramenti non ne abbiamo riscontrati tant'è che la cartella chi di voi l'ha presa appunto sono inseriti dei documenti che sono datati nel senso che portano chi la data 2003 chi 2005 2008 avremmo potuto cambiare la data non è cambiato nulla e quindi questo per noi è una grande sconfitta ci siamo appunto chiesti come mai forse dipende da noi no abbiamo riscontrato che questo succede in tante altre realtà nazionali è solo una questione di potere siamo ovviamente una piccola realtà e quindi abbiamo bisogno di voi tutti quindi voi qui non siete venuti solo per ascoltare ma siete anche invitati a collaborare affinché quando uscite di qua potreste dire oh finalmente oggi non ho buttato via del mio tempo ma sono stato chiamato a collaborare per migliorare un po' meglio la sanità in questo noi siamo chiamati non solo ma anche le figure che sono state ora presentate che dovrebbero essere di tutela invece purtroppo nella realtà non sono affatto di tutela e quindi alla parola a chi vuole presentarsi per primo per appunto dichiarare la propria testimonianza ai signori qui in prima fila buonasera si si faccio da me un sicuro io sono Fulvio Tomaselli sono un medico mi occupo di prevenzione dell'invecchiamento da 30-40 anni circa e sono stato fino a che mi è stato consentito dall'amministratore di sostegno il medico personale di fiducia di Lando Buzanca che immagino voi tutti conosciate almeno di nome Lando Buzanca ha avuto un problema è caduto in casa come tutti i vecchietti ha 86 anni per cui capita e questa sua caduta l'ha portata ad un ricovero questo ricovero 21 aprile di un anno fa non è ancora finito Lando Buzanca dà un percorso di riabilitazione successiva a questa caduta è passato da un aphasico lieve con una cataratta a 86 anni è consentita sia l'una che l'altra cosa ad essere qualificato come uno incapace di poter gestire se stesso ed è diventato ricoverato in un RSA dal 27 di dicembre senza la minima possibilità di esprimere una sua volontà di qualunque tipo essa sia approfitto e la Presidentessa lo sa ad invitare qui quella che è diventata la paladina che per un fatto di personale come il divieto di incontrare il suo uomo il suo fidanzato il suo compagno è diventata la paladina ed è riuscita a smuovere come dire i piani alti ossia a far portare un'interpellanza in Parlamento per la abolizione per la cancellazione di questa legge che evidentemente ha dei buchi non la legge in sé perché l'abbiamo studiato io non sono un avvocato ma ho studiato questa legge come poche altre cose in vita mia la legge è perfetta è l'esecuzione che è assolutamente imperfetta da parte di persone che non esiterai a definire non lo definisco ma avete capito cosa voglio dire perché quando un Carlo Girardi non può disporre del suo patrimonio personale perché la sorella patrimonio forse è anche della sorella quindi potrebbe essere interessata quando un Lando Puzzanca non può sposare la donna che ama perché se noi figli il patrimonio e lui dichiara prima che questo accadesse i miei figli vogliono i miei soldi e vogliono la mia casa oggi i suoi figli vivono nella sua casa e lui è sbattuto in una RSA con un'altra chiamerei qui Francesca della Valle che è appunto la sua compagna a darvi forse qualche raguaglio ulteriore su questa situazione buonasera a tutti ringrazio il professor Tomaselli che davvero con me è un pilastro in questa battaglia ringrazio la presidente e ringrazio Medicina Democratica la mia collega ufficio stampa davvero straordinaria io sono una giornalista e sono la compagna di Lando Puzzanca da sei anni Lando Puzzanca ha avuto solo un grandissimo limite è stato è un grande attore non ha mai gestito il suo patrimonio l'ha fatto la moglie sino al duemiladieci anno della sua dipartita e i figli fino a quando Lando Puzzanca non ha deciso che era stanco del depauperamento del suo patrimonio e si è rivolto a una persona di fiducia qualche il i buoni figli hanno deciso di trascinarlo in tribunale per cattiva gestione del suo patrimonio personale ebbene lui ha sottolineato al giudice tutelare io ho scelto una persona di fiducia io non so gestire il mio patrimonio peraltro lui aveva una blandissima afasia intorno al duemiladiciotto diciannove sapete una problematica di linguaggio nient'altro che gestiva da grandi attore anche con l'ausilio della logopedia il giudice tutelare ha detto no 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 nominiamo una DS no nel frattempo il suo CT del giudice tutelare ci trasferiremo a Torino la situazione invece è molto più corretta che ora leggo dalle parole del GT che davvero ti fa capire che tutto è perfetto così non è almeno in altre città d'Italia continuavo e continuo a dirvi il GT il CTU dice beh vabbè secondo me 80 anni qualche problema c'è dai mettiamoli in un amministratore di sostegno nostro appena è entrato l'amministratore di sostegno ha interrotto la logopedia di Lando Buzanca non solo gli ha impedito di fare le cataratte eh sì abbiamo fatto istanza perché Lando Buzanca ha un suo avvocato ulteriore il quale il giudice non ha mai risposto e poi il 21 aprile 2021 13 mesi fa Lando Buzanca è un uomo che si non hanno ferito è un uomo di 45 50 anni proprio a livello di capacità ha sempre lavorato ha fatto dichiarazioni molto forti pubbliche nel 2020 nonostante ciò dal 21 aprile 2021 Lando Buzanca è sequestrato è prigioniero dalla legge 604 mi hanno impedito di vederlo io sono legalmente riconosciuta e non solo anche oltre ho vetto dell'amministratore di sostegno sulle informazioni cliniche io li ho saputi da io stesse da giornalista ovviamente oltre che da donna follemente innamorata di Lando Buzanca ma queste saranno anche cose nostre no? non è anche questo era il nostro diritto comunque al di là del veto vai in una clinica di riabilitazione deve tornare a casa eh ad agosto 2021 non è più tornato e allora io da giornalista alla stampa mi ha seguito quella seria poi c'è stata quella che ha deciso di fare altro di nascondere la verità a un certo punto Lando Buzanca aveva demenza senile poi Alzheimer era paraplegico poi era autistico insomma io ho sottolineato che Lando Buzanca il mio timore è che finisse in un'RSA ma no mi è stato detto che scherzi non accadrà mai Lando Buzanca dal 27 dicembre è sequestrato è prigioniero in un'RSA doveva tornare a casa stava benissimo camminava ho documenti ho denunciato tutta la procura della Repubblica di Roma quindi ebbene io lo vedo con grande difficoltà perché l'amministratore di sostegno un giorno ha la disfagia causata da farmaci che succede in quella RSA peraltro il responsabile medico della RSA è il CTU che all'epoca diceva si mettiamo un amministratore di sostegno all'Ando Buzanca è sequestrato è lì è disperato è giallo farmaci è su una sedia a rotelle lo hanno isolato da un di tredici mesi non ha più il suo telefono non vede la tv con la scusa di pravia si vede o non può fare nessuna scelta e nel frattempo io sento ascolto si parla si vocifera non è che gli hanno anche venduto la casa ciò che lui temeva eh l'Ando Buzanca è in una RSA un uomo che ha reso con la sua arte grande l'Italia è in una RSA e nel frattempo da tredici mesi tutto questo dolore l'ho trasformato in forza sociale non potevo continuare a star male ho lottato e lotterò fino alla fine ho raccolto migliaia di storie migliaia la gente di notte mi chiama gli amministrati mi lasciano degli audio tutto nel mio computer qui disperati dottoressa mi salvi io credo in lei sì io credo che ci sia una giustizia non credo nella legge se zero quattro oddio era ben costruita è la discrezionalità il problema gli amministratori di sostegno ce ne saranno alcuni che così non sono ma gli amministratori quelli che io ho raccolto la mia esperienza personale annientano la vita ti sequestrano e ti buttano in una RSA questo è successo a Lando Buzanca prigioniero Lando Buzanca è prigioniero in una RSA perché dovrebbe stare in una RSA Lando Buzanca può stare a casa tranquillo essere assistito a casa qualunque cosa sia accaduta nel frattempo in questa RSA Lando Buzanca deve tornare a casa assistito soprattutto nel suo ambiente domestico affiancato dalla donna che ama dagli amici dal pubblico tanta gente ci sostiene il pubblico il pubblico che ama Lando Buzanca tanti tantissimi e io ho stimolato un'interrogazione parlamentare per l'abrogazione della legge oggi al valio del Ministero della Giustizia una cosa è certa c'è chi dice modifichiamola facciamo la legge ha fallito perché se sono migliaia i casi la legge ha fallito io vorrei una legge 6 0 anzi 6 22 in cui sia davvero ci sia una figura che diventi l'angelo custode dell'amministrato e non il carnefice perché Lando Buzanca ha un carnefice con Lando Buzanca sono migliaia migliaia i casi ci seguono sui social tutti e ora basta basta con la legge 6 0 4 basta se queste sono le conseguenze poi per carità a Torino la situazione diversa non è giusto perché lei ha parlato magari l'avessi incontrata io guardi ora non racconto i dettagli perché io sono certa la bellezza delle parole del GT erano evidenti è perfetta così ma non è così non è grazie grazie Lando Buzanca libero stop amministrazione di sostegno se questo è il risultato grazie presidente grazie accogliamo questo grido di dolore io mi associo totalmente perché ho appena detto che pure io sono vittima di un tutore non di un'amministrazione di sostegno di amministratore di sostegno ma di un tutore che ignora totalmente la persona che dovrebbe essere tutelata non l'ha mai vista non solo ignora la malata ma ignora anche la sottoscritta quindi il difetto non è soltanto nell'amministrazione di sostegno ma deve essere rivisto tutto l'impianto quindi io chiedo alla dottoressa Firao nonché giudice tutelare se noi familiari non abbiamo diritto di scegliere la persona che dovrebbe essere di nostra fiducia invece non è affatto di fiducia io sono preoccupatissima anche per il mio futuro perché io sono sola e mi si bolle il sangue nelle vene se io un domani dovessi mai aver bisogno che un tribunale mi affida un amministratore di sostegno un tutore che non è di mio gradimento mi dispiace molto che oggi non può essere presente una consulente tecnico d'ufficio di un tribunale di Roma che è stata chiamata per valutare la situazione di una malata che appunto non voleva assolutamente avere a che fare con quell'amministratore di sostegno che cosa hanno fatto? Hanno dichiarato non in grado di intendere di volere la malata perché si tenesse quell'amministratore di sostegno queste sono cose che non debbono assolutamente succedere in un paese come l'Italia che si dichiara la patria del diritto io parlo da Bologna Bologna è stata la prima università italiana e la prima università di diritto e quindi queste sono cose che assolutissimamente non debbono succedere e io ripeto che sto male ma male quando una persona si rivolge a me che racconta i suoi drammi è presente cioè oltre ad essere presente testimone l'avvocato Trebeschi al quale ho presentato una persona rimango generica non non do nessun elemento rispetto al sesso perché proprio questa vive malissimo e da oltre dieci anni che appunto ha la figura di un amministratore di sostegno che non lo sopporta è mai possibile che queste situazioni debbano sembra che debbano durare all'infinito allora come si può rimediare non possiamo permettere la discrezionalità del giudice tutelare in queste situazioni eh giudice tutelare è possibile questo? non si può rinunciare alla discrezionalità del giudice tutelare se voi aveste un qualcosa che non ha discrezionalità non avreste un giudice non avreste l'algoritmo l'algoritmo di cui parlava il professor Lumia eh la scelta di uno dell'altro a voi può sembrare eh fatta a caso fatta ehm il visto si autorizza del giudice tutelare vi può sembrare una cosa eh del cavolo che non ha bisogno di nessuna preparazione prima questo è un altro preconcetto che fa sì che il giudice tutelare sia una funzione che viene affidata in più rispetto alle altre tanto a fare un visto di autorizza che cosa ci vuole dietro quel visto di autorizza non c'è solo la vostra vita c'è anche tutto lo studio che fa il giudice tutelare di quel caso che con i numeri dei giudici tutelari di cui parlava l'avvocato alle volte non si può che trasformare in un visto si autorizza per evitare che per fare il provvedimentone lungo eh bello che possa far dire oh guarda come ha studiato questo giudice non arrivi tempestivamente rispetto alle esigenze perché il giudice tutelare fa fronte a migliaia di richieste in tempi brevi perché sono tutte urgenti sono tutte urgenti e tutte date in più oltre al resto perché tanto cosa vuoi che ci sia cosa vuoi che ti ci metta tanto il decreto è già più o meno fatto e non è vero perché poi come diceva il professore per fare il magistrato non studiamo due giorni eh e per fare quello che facciamo non lo improvvisiamo e quindi magari voi non lo notate ma nel vostro decreto che vi sembra tanto uguale a quell'altro ci sono due frasi o due cose che io ho messo in più o che non ho messo valorizzando una determinata situazione voi potreste dire ma ce lo doveva spiegare non ve lo posso spiegare tutto non posso ricevervi uno alla volta e spiegarvi tutto non lo può fare nessun giudice lo si pretende molto di più dal giudice tutelare perché è più in prossimità ma non lo può fare manco lui perché per tutti gli altri c'è per forza la necessità della difesa tecnica perché ci vogliono delle conoscenze per poter fare un processo civile che io non vi posso spiegare snocciolandovi tutti i principi e tenendovi lì giorni e giorni ma non vi posso spiegare non ho il tempo perché o decido le cose e ve le faccio in modo che voi possiate avere quel provvedimento o ve le spiego purtroppo così sono numeri e la coperta troppo corta però la coperta non la faccio io io posso solo decidere quante ore lavorare al giorno e poi ad un certo punto fermarmi questo non vuole essere una giustificazione né per la categoria né per niente voi mi avete portato casi singoli e casi particolari io vi posso portare il numero dei casi che io affronto e nel numero per me la normativa regge però capisco che è un approccio diverso l'approccio della famiglia il dolore della famiglia io non lo posso comprendere tutto appieno perché ogni situazione è veramente particolare se io mi dovessi fare carico forse appieno di tutto il dolore che ogni fascicolo giudice tutelare porta forse non arriverei a casa la sera quindi io non ho l'arroganza di dire che io capisco tutte le vostre esigenze io come penso una parte dei giudici tutelari non posso parlare per tutti ma cerca di fare il meglio che può con quello che ha scusate scusate devo dare la precedenza non ho risposto alla sua domanda prego in generale quando c'è un'alta conflittualità tra beneficiario e amministratore si prova a cambiare l'amministratore soprattutto se è un soggetto terzo si cerca di fare ma a me è capitato di soggetti che non vogliono in realtà loro non andare d'accordo con quell'amministratore di sostegno e che non lo vogliono non lo vogliono come figura non lo vogliono seppure ci siano tutte le carte per dire che ne hanno bisogno e quindi non servirebbe neanche continuare a cambiarlo poi si cerca di fare poi tu l'umano non è perfetto l'essere umano non è perfetto nessun giudice potrà essere perfetto ci sarà chi si impegna chi no non voglio neanche giudicare o dare giudizi su quello che hanno fatto altri colleghi io posso vedere nei miei numeri e in base a quello che che vedo faccio e vedo fare intorno a me tutto lì prego chiedevo chiedevo una cosa eh sono argomenti che non conosco bene ma esiste una sorta di organo di controllo cioè si potrebbe ipotizzare una sorta di albo istituzionale che una sorta di albo istituzionale a cui siano iscritti gli amministratori di sostegno a cui il cittadino possa rivolgere istanza per controllare perché tanti lavorano bene però ovviamente i casi che lavorano male ci sono eh sono magari episodici però devono essere in qualche modo risolti e controllati per cui se ci fosse uno strumento come un albo professionale una commissione di controllo una commissione di non lo so questa è una cosa legislativa che altri possono dire i professionisti hanno tutti un albo si sta cercando eh penso di fare anche degli elenchi di soggetti che abbiano una eh un profilo professionale per svolgere il ruolo di amministrazione di sostegno io recentemente ho fatto un intervento ad un corso che era rivolto a coloro che volevano poi rivestire il ruolo di amministratore di sostegno di tutori era un corso rivolto agli avvocati che volevano di Torino ed era è intervenuto Paolo Cendono sono intervenuti eh tanti soggetti tante figure perché questa è una materia che abbraccia tante materie e quindi sono intervenuti in tanti il consiglio dell'ordine degli avvocati oppure dei commercialisti perché le figure maggiori sono queste due eh a cui eh viene dato questo incarico certamente possono svolgere poi la mela marcia c'è sempre anche da noi recentemente è venuta fuori una mela marcia abbiamo revocato tutti gli incarichi quindi è una una cosa che non si può estirpare nel senso che uno poi cerca di farci l'attenzione che può i provvedimenti del giudice tutelare sono reclamabili cioè non è neanche che noi decidiamo e qualsiasi cosa decidiamo non può essere messa in discussione sono reiterabili eh si cerca anche di eh con prassi eh organizzative di non eh concentrare eh troppo sempre nello stesso soggetto che quindi poi cambia anche un po' la testa e quindi ogni tot magari ci sono eh delle ecco questo era per il mio treno eh delle ehm e cambi per cui eh non so ci sono eh tipo alcuni tribunali vanno per lettera allora la lettera che prima facevo io adesso passa al collega non lo si fa troppo di frequente perché è è una perdita anche di conoscenza del fascicolo qua parliamo di fascicoli eh che alle volte neanche i giuristi si rendono conto mi ricordo una volta un presidente di Torino che ha chiesto come mai alla sezione all'epoca era la settima ci sono cause non solo ultratriennali ma che durano decenni ma se il ragazzino è disabile e lo interdiciamo tra i diciassette e i diciotto anni e fino a quando ci sarà al mondo magari c'è l'interdizione quindi sono cose che proprio non vengono comprese quindi hai fascicoli che sono anche molto voluminosi e per capirli e per entrare nel meccanismo di quella storia personale ci metti un po' quindi non si può neanche cambiare ogni totto perché perderesti il lavoro che hai fatto però si cerca anche di non eh incancremire le situazioni perché magari in quella situazione non si andava bene non solo con l'amministratore di sostegno ma neanche col giudice tutelare allora cambiare può essere utile perché si vede la situazione la vede un altro che già solo perché è un soggetto diverso la vede da un altro punto di vista ha un'esperienza di vita diversa vede qualcosa che io non ho visto ora do la parola al dottor Marco Saba tengo a precisare che do la precedenza alle persone che si sono prenotate comprendo benissimo che tra di voi c'è qualcuno che desidera intervenire però trovo che sia corretto che abbia la precedenza la persona che si è prenotata oltretutto il dottor Saba viene da Firenze e da una situazione molto allarmante e pesante vi ringrazio dunque io vengo qua per portare diciamo la testimonianza del caso di mia madre che alla quale è stata nominata un'amministrazione di sostegno senza neanche mai ascoltarla e senza ascoltare me che diciamo ero quello che mi occupavo in casa di mia madre che era stata lasciata in uno stato di abbandono da parte della sorella purtroppo allora cosa è successo è stato nominato un'amministratore di sostegno a settembre che ha posto in essere tutta una serie di atti che più che aiutare mia madre l'hanno messa sempre più in difficoltà fino ad arrivare a dicembre dell'anno scorso in cui è stato sequestrato il suo conto corrente con 26.000 euro e l'amministratore ha aperto un altro conto a nome di mia madre però che usava lui senza neanche dare gli estremi del conto a mia madre dove aveva dirottato tutte le rendite di mia madre teniamo presente mia madre dovrebbe avere delle rendite intorno ai 13.000 euro al mese e praticamente da gennaio di quest'anno non ha visto assolutamente niente in più sono stati due e gli amministratori di sostegno che si sono succeduti uno da settembre a dicembre che poi ha dato le dimissioni quando mia madre gli ha scritto minacciandolo di citarlo per danni e di fare un'azione di responsabilità dopo questo la giudice ha nominato un'altra amministratrice di sostegno che da gennaio si è fatta viva solamente ieri senza mai passare alcuna provvidenza a mia madre ma mantenendo appunto tutti i soldi in questo conto che ha aperto presso un'altra banca quindi in teoria se non ci fossi stato io che sono l'unico che è lì in casa con mia madre mia madre da gennaio non avrebbe assolutamente soldi possibilità di comprare il cibo e addirittura ad aprile le hanno staccato il telefono perché l'amministratore di sostegno non ha pagato quattro bollette gennaio febbraio marzo aprile quindi non avrebbe neanche potuto chiamare un'ambulanza cosa che si è resa necessaria settimana scorsa perché è caduta e l'hanno dovuto ingessare una gamba oggi sta facendo in questo momento l'adegenza al Dognocchi di Firenze perché ha questa gamba ingessata e quindi per un mese starà lì però l'amministratore di sostegno sia il primo che il secondo hanno fatto di peggio invece che sostenerla hanno intimato al suo avvocato che stava seguendo dei casi per conto di mia madre di smettere di occuparsene che se ne sarebbero occupati loro invece non se ne sono occupati minimamente nonostante che fossero guarda caso anche due avvocati questi due amministratori di sostegno quindi il mio cioè l'avvocato di mia madre ha detto che sono cose inaudite è rimasto senza parole ma più di tanto non si può fare e quindi non si riesce a eliminare questa persona tra l'altro vorrei rendere noto che io stesso sono iscritto all'albo degli amministratori di sostegno del tribunale di Milano anche se non l'ho fatto valere e quindi potevo benissimo continuare a occuparmi direttamente degli affari degli interessi di mia madre comunque la situazione è questa mia madre non è potuta venire avrebbe voluto venire lei oggi a raccontare il suo caso ma non si poteva muovere appunto con questa gamba e chiede mi ha chiesto di dire però che secondo lei sarebbe opportuno che nei casi più clamorosi dove si vede diciamo la imperizia sia degli amministratori che del giudice tutelare si potrebbe chiedere l'intervento degli ispettori del ministero di giustizia presso il tribunale per verificare che non ci siano delle cose troppo troppo assurde quindi non è vero che non c'è un potere di supervisione sull'attività della magistratura c'è come senza considerare anche il consiglio superiore della magistratura quindi io finisco e vi saluto io purtroppo devo andare via non volevo interrompere capore poi c'è un problema generale in tutto il caso che è in mano che è tenuto tutte le stesse condizioni di affrontare questo che è tutto il caso sempre che è il caso è come però deve fare cose stanno occupando le persone ma io la capisco il problema è che noi magistrati in generale parliamo all'interno perché abbiamo anche problemi di deontologia di imparzialità per parlare all'esterno quindi noi all'interno dei nostri tribunali lo chiediamo e lo chiediamo da tempo il problema è proprio di percezione della funzione del giudice tutelare in generale nel sistema giudiziario italiano perché se voi vedete l'organizzazione di molti tribunali la funzione del giudice tutelare viene affiancata e quasi appoggiata in più rispetto ad altro e questo è già sminuiti in sé adesso nel tribunale di Torino si sta per fare una non è proprio una sezione a parte ma è una sottosezione cioè la sezione in cui sono io che fa immigrazione gli stranieri il diritto di asilo degli stranieri la protezione internazionale e la materia dei giudici tutelare verrà suddivisa in due in modo che il soggetto persona fisica o faccia uno o faccia l'altro perché anche come materie sono entrambe molto numerose nel senso che hanno tanti provvedimenti numericamente incidenti non so se da altre parti ci siano iniziative di questo genere secondo me di sicuro ne migliorerà la qualità e il lavoro del giudice tutelare quindi anche l'utenza lo percepirà in maniera sicuramente anche veloce perché un giudice che possa pensare solo a il giudice tutelare è un chiamiamo così un lusso che finora non ci si è potuti permettere speriamo che se funziona questa prassi organizzativa venga magari presa anche da altri tribunali però sappiate che non è che noi non ci non cerchiamo di far sentire la nostra voce però poi non siamo noi che decidiamo i numeri dei i numeri dei magistrati né i numeri delle dotazioni che possono darci noi davvero nella mia esperienza possiamo io conosco tutti i colleghi che io conosco si impegnano un sacco per riuscire a cercare di darvi il servizio che voi ricevete oltre a questo non posso non posso pronunciarmi quindi la ringraziamo ancora tanto scusate un attimo ne approfitto intanto che la dottoressa va cioè questo è il mondo che abbiamo creato in cui l'efficienza deve prevalere sull'efficacia siamo valutati per prestazioni e le prestazioni devono essere numerose non importa se sono prestazioni di qualità quello che noi dobbiamo tornare a chiedere in tutti gli ambiti eh dei servizi statali è proprio questo c'è la garanzia di interventi di qualità la qualità richiede preparazione e richiede tempo tempo dedicato io lo posso dire ad esempio da psichiatra di come per i nostri pazienti sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio che è una cosa di legge ed è una cosa necessaria che a volte ha anche salvato vite di persone però per loro è difficile comprendere quando diciamo è un giudice tutelare che ti garantisce in questa cosa ed è al giudice tutelare che devi rivolgerti per qualunque istanza per loro capire che un giudice tutelare lui dice come si chiama chi è e tu devi dire dipende dal giorno in cui siamo perché purtroppo ha una azione così importante che è la tutela dell'interesse della vita delle persone e lo si fa a rotazione chi c'è c'è è come se un giorno in sala chirurgica anziché del dottor del dottor Lumia c'entrassi io che sono la psichiatra oggi tocca allo psichiatra e l'intervento toracico lo faccio io non l'augurerei a nessuno ovviamente però in questo abbiamo tutti una corresponsabilità come cittadini perché non è solo il giudice tutelare che deve dire dobbiamo essere di più perché quando noi lo diciamo lo diciamo da quindici anni nessuno ci ascolta i cittadini devono dire devono essere di più in questo bisogna che tutti ci affiantiamo altrimenti non si va da nessuna parte ora daremo la parola all'avvocato Di Palma Giochino Di Palma che rappresenta Telefono Viola ed è da parecchio che sta aspettando e porta un'esperienza nazionale oltre ai casi personali le storie personali per carità sono importantissime però è importante anche avere un quadro generale nazionale grazie avvocato a lei la parola cercherò di essere brevissimo mi occupo di questa materia dal momento in cui è nata la legge nel 2004 con il professor Scindonna che tra l'altro sta operando anche in questo periodo per una modifica di questa legge in questa legge noi abbiamo una parola fondamentale che però a me sembra che è troppo spesso viene messa in secondo piano il lavoro che deve essere svolto a tutela dell'amministrato è un lavoro di affiancamento ora questo affiancamento in moltissimi troppi casi d'Italia in realtà noi non lo abbiamo perché l'amministratore di sostegno si sostituisce all'amministrato e la sua figura diventa addirittura peggiore di quella di un tutelato chi ha il tutore non ha la capacità di agire e quindi il suo tutore diventa quella persona diventa lui è il tutore che decide qualunque cosa della sua vita l'amministrato ha invece una persona che per un determinato periodo della sua vita per problematiche umane sociali economiche familiari sono tante psichiatriche quante ce ne sono necessita di un affiancamento di un aiuto cioè da una parte l'ordinamento e la nostra società gli riconosce una sua capacità di poter godere della sua vita della sua autonomia della sua capacità intellettiva della sua capacità volitiva ma al tempo stesso gliela togliamo perché questo lavoro di affiancamento non viene fatto dagli amministratori di sostegno è un lavoro di sostituzione c'è un problema enorme secondo me con l'amministrazione di sostegno che è il seguente troppo spesso noi pensiamo che le persone che necessitano di aiuto perché stanno attraversando un particolare momento della loro vita debbano essere adeguati al nostro sistema sociale cioè sono persone che spendono i loro soldi che i figli vogliono avere con l'eredità ma sono i loro soldi però non vanno bene sono prodighi e poi a noi cosa ci resta? Secondo me noi dobbiamo ribaltare il punto di vista il problema non è portare queste persone in difficoltà all'interno di un sistema sociale che è il nostro sistema sociale ma dobbiamo essere noi a capire anche le stravaganze anche le originalità anche le difficoltà di queste persone e noi come sistema sociale dovremmo essere capaci quindi di aiutarli in questo senso con una maggiore capacità di tolleranza sociale che è una tolleranza sociale che oggi non c'è vi faccio un caso che è concreto ma dall'idea del problema quando ancora non esisteva la legge Basaglia c'era soltanto la legge manicomiale del 1904 c'era un signore chiuso nel manicomio di Trieste che pensava di essere di vetro e questa persona ha passato tutta la sua vita all'interno di un manicomio perché pensando di essere di vetro nessuno lo poteva toccare non gli potevi dare la mano non gli potevi dare una pacca sulla spalla se no si rompeva e questa persona ha avuto una qualità di vita che era quella dei nostri manicomi quando io ho letto questa storia molti anni fa mi sono chiesto questa persona è stato un costo sociale per noi perché l'abbiamo dovuto in qualche maniera mantenere all'interno di questa struttura ma gli abbiamo dato una qualità di vita scadentissima non scadente non era meglio se il comune gli dava una casa e gliela foderavamo dei materassi e lui c'aveva un minimo di vita che lo poteva soddisfare era convinto che era di vetro lo vogliamo chiamare un matto vogliamo dire che questa persona non era assolutamente capace di capire nemmeno il suo corpo e allora perché lo dobbiamo punire perché lo dobbiamo tenere chiuso dentro un manicomio perché non lo dobbiamo capire nella sua pazzia la vogliamo chiamare pazzia quella che noi uomini chiamiamo pazzia quegli uomini della strada uno psichiatra gli darebbe una diagnosi precisa parlerebbe di un borderline di un paranoide di un schizio affettivo che ci sono mille parole mutace ce ne stanno quanti ne vogliamo l'uomo della strada li chiama pazzi ma perché i pazzi non debbono essere accettati nelle loro originalità perché molto spesso io mi occupo di trattamenti sanitari obbligatori da oltre dieci anni quindi quotidianamente ricevo telefonate da tutta Italia da persone che sono chiuse nei reparti psichiatrici che dicono che devono essere liberati avvocato mi aiuti già questo è strano perché una persona che il nostro sistema sociale vuole tutelare nella sua difficoltà perché deve vivere questa sua difficoltà dicendo liberatemi ma come noi ti stiamo aiutando e tu vuoi essere liberato c'è qualcosa che non va noi non siamo in grado di metterci in relazione con queste persone e la colpa è nostra nostra della società perché siamo noi che dobbiamo capire loro e non loro che debbano capire noi e questo è il problema sul problema dei numeri che è stato affrontato poco fa anche dalla dottoressa Firrao il professor Cendon che oggi ci parla di circa quattrocentomila amministrazioni di sostegno in Italia sapete in che cosa in che numero ha stimato le future amministrazioni di sostegno tra i tre e i quattro milioni ma chi li gestisce ma questi amministratori di sostegno che si sostituiscono agli amministrati e fanno le cause a nome dell'amministrato senza nemmeno dirglielo ma dov'è l'affiancamento? Ma chi li controlla? Ci vuole un controllo su queste persone termine il mio intervento non voglio togliere spazio a molti altri vi assicuro che di questi casi ne conosco non uno non dieci non cento ma ne conosco pure mille e il problema è sempre quello e c'è anche un problema delle famiglie che si rivolgono al sistema sociale al magistrato al giudice all'amministratore di sostegno nel convincimento che la loro mamma che sta soffrendo di una demenza senile che non capisce più il valore del denaro eccetera possa essere aiutato e nel momento in cui trovano l'amministratore di sostegno si sentono imbrigati in una ragnatela dalla quale non escono più è assurdo non può succedere questo le persone chiedono aiuto a un sistema sociale difficile farraginoso complicato mille problemi mille difficoltà però non possono poi una volta che sono caduti nella ragnatela sentirsi prigionieri noi dobbiamo essere liberi e lo saremo se siamo in grado di rispettare la libertà degli amministrati questa secondo me è la vera novità è la vera fulcro del problema vi ringrazio a questo punto visto che l'avvocato di Palma ha citato la ragnatela che appunto è un'espressione dell'associazione diritti alla follia si può collegare ehm dare spazio appunto a chi intende intervenire da remoto diritti alla follia avevano chiesto di intervenire possiamo dare a loro la possibilità sono collegato però buonasera sono l'avvocato Capano però il video è disabilitato credo dall'organizzatore mi sentite? sì sì pronto? sì sentiamo ok allora devo fare soltanto in voce perché vedo che non so se avete anche eh apprezzato la possibilità del collegamento video altrimenti vado in voce tranquillamente sì sì in voce prego grazie grazie allora buonasera e grazie alla eh professa Bellotti per l'organizzazione di questo bell'incontro e anche per le parole di apprezzamento che ha voluto avere per il lavoro su questi temi dell'associazione radicale diritti alla follia eh per conto della quale intervengo grazie anche all'avvocatessa Chiara Colombini di Modena che eh analogamente ha voluto segnalare il lavoro su questo terreno che noi cerchiamo di compiere ehm io rispetto all'interessante dibattito che c'è stato e nel tentativo di dare un contributo alla riflessione che stiamo tutti insieme eh credo anche serenamente eh compiendo sulla funzionalità sui problemi che eh ci sono nelle eh concrete situazioni che vengono all'attenzione dei diversi operatori eh nell'ambito diciamo così del eh del disagio del disagio psicosociale ma della disabilità in generale vorrei sgombrare il campo e in questo senso eh prendendo un po' il testimone del bel intervento dell'avvocato eh Francesco Trebeschi del collega eh Trebeschi sgombrare il campo dall'idea che qui ci troviamo di fronte ad una serie di casi singoli eh ognuno dei quali naturalmente andrebbe approfondito ha una storia particolare eh che però non sono significativi eh di problemi eh di tipo strutturale tra virgolette che caratterizzano l'organizzazione eh di questi servizi il servizio giustizia degli altri servizi connessi eh in Italia in realtà i problemi sono di carattere strutturale uno lo segnalava bene se ne è parlato l'autorista Firrao il giudice tutelare che purtroppo ha dovuto lasciarci e riguarda il fatto che l'ufficio del giudice tutelare per le mani del quale passano in diverso modo le le situazioni che stiamo cercando di analizzare è effettivamente considerato la cenerentola di ogni tribunale da un punto di vista delle dotazioni da un punto di vista dei magistrati che vi sono applicati a fronte di situazioni che hanno una consistenza anche da un punto di vista statistico enorme e questo rappresenta indubbiamente un problema di carattere strutturale aggravato dal fatto che probabilmente vi è anche un ricorso a questi istituti che è superiore rispetto all'effettiva esigenza sociale connessa a questi istituti e questo è in sé anche un problema di tipo culturale perché ha a che fare con il tipo di attenzione che la nostra società decide di riservare alle problematiche che attengono alla disabilità al disagio psicosociale ma c'è un secondo e più grave problema culturale e legale direi che prende le mosse appunto dal quadro internazionale connesso alla tutela della disabilità psicosociale all'organizzazione dei servizi connessi alla disabilità psicosociale ai diritti che sono riconosciuti ai portatori di disabilità psicosociale sul piano appunto ripeto internazionale è stata citata dal collega Trebeschi la convenzione ONU sui diritti dei disabili che è diventata legge anche in Italia dopo essere stata stipulata nel 2006 nel 2009 il cui articolo 12 citato dal collega Trebeschi è in sé incompatibile ahimè con quello che il nostro codice civile stabilisce riguardo all'interdizione e riguardo all'amministrazione di sostegno con le caratteristiche concrete che ha assunto e che assume nei decreti dei giudici tutelari nella copertura che c'è stata nel nostro ordinamento da parte della stessa corte costituzionale che nel 2019 con la sentenza 114 chiamata da un giudice tutelare a decidere se un istituto che aveva le caratteristiche che avevamo in qualche modo letto nell'articolato normativo e che nasceva per contraddire quel tipo di morte sociale che era connessa all'interdizione potesse tollerare il famoso abito che si giungesse in un decreto che riguardava l'amministrazione di sostegno per esempio ad attribuire all'amministratore la possibilità di dare il consenso riguardo alle cure del beneficiario sembrava a quel giudice tutelare che faceva l'ordinanza di dimissione che questo tipo di potere così invasivo riguardante una sfera così gelosa della personalità individuale non fosse tollerabile al cospetto di un istituto che nasceva con caratteristiche dirette al famoso affiancamento che citava il mio amico avvocato Gioacchino Di Palma in telefono viola che ha parlato poco fa e la Corte Costituzionale ha detto deve valutare in concreto il giudice tutelare se questa forma di delega è necessaria nel caso concreto questa forma di delega può essere data dal giudice tutelare sancendo quindi quella equiparazione di fatto tra le potenzialità dell'amministrazione di sostegno e l'interdizione che la nascita dell'amministrazione di sostegno sembrava contraddire quindi anche il dibattito relativo alla necessità o meno di superare l'interdizione diventa stucchevole al cospetto di amministrazione di sostegno che sono puramente e semplicemente delle interdizioni ma qual è il problema torno a dovero partito e alle legalità internazionali che questo articolo dodici di questa convenzione ONU del duemilasei di venuta legge in Italia nel duemilanove che non a caso il professore Paolo Cendon per esempio dice che dovrebbe essere abrogato anche sul piano internazionale viene interpretato dal comitato ONU che è preposto all'attuazione di questa convenzione e quindi al monitoraggio delle legislazioni dei vari paesi Italia compresa che hanno sottoscritto la convenzione e che si sono impegnati ad attuarla nei seguenti termini leggo dal rapporto sull'Italia del comitato ONU preposto ripeto alla verifica della concreta attuazione nei diversi paesi della convenzione che quindi ha analizzato anche la legislazione italiana e ha segnalato all'Italia nell'agosto del duemilasedici le sue valutazioni riguardo al rapporto tra la legislazione e la prassi italiana e i diritti che vengono riconosciuti ai portatori di disabilità psicosociale dalla convenzione e segnatamente l'articolo dodici leggo a pagina quattro il comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo amministrazione di sostegno il comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali compreso il meccanismo dell'amministrazione di sostegno e di emanuare ed attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni compresa e questo è il secondo grande puntum prurience la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario sanitario e sociale perché quando io ma lo dico in modo rispettoso sento il dottore Lumia poi ci terrò ci tornerò brevissimamente la dottoressa Firrao mi rendo conto che rispetto al quadro di questi diritti con i quali non si può anche non essere d'accordo ma che esistono c'è un grandissimo problema in Italia di formazione come ci dice il comitato ONU a partire dalla formazione dei giudici tutelari è per questo che un anno fa noi come associazioni diritti alla follia abbiamo scritto al consiglio superiore della magistratura tutti i giudici tutelari d'Italia e anche al presidente della repubblica per raccomandare loro di studiare di formarsi al nuovo quadro internazionale connesso alle prerogative inalienabili deportatori di disabilità psicosociale all'impossibilità di stabilire i meccanismi di sostituzione integrale di una persona a un altro questo è un gigantesco problema culturale strutturale ma non lo dico io lo dicono a Ginevra ce n'è un altro di problema strutturale vado verso la conclusione non voglio rubare più del tempo che mi è stato gentilmente affidato che riguarda appunto la nozione di disabilità anche questo era presente nell'intervento del collega Trebesi non è dottor Lumia una questione solo medica questo è segno di uno sguardo rivolto al passato è un'altra questione che come diceva il collega allude nella sua stessa definizione alla interazione tra il soggetto che noi definiamo disabile e il contesto sociale istituzionale culturale amministrativo che lo circonda è per questo che in questo stesso rapporto del trentuno agosto duemilasedici il comitato ONU nel rivolgersi all'Italia dice a pagina uno il comitato è preoccupato per l'esistenza di molteplici definizioni di disabilità in tutti i settori e nelle regioni inoltre dice il comitato la disabilità continua ad essere definita in una prospettiva medica e il concetto riveduto di disabilità proposto dall'osservatorio nazionale della condizione delle persone con disabilità non è a sua volta in linea con la convenzione ed è privo di una normativa vincolante a livello sia nazionale sia regionale il comitato raccomanda di adottare un concetto di disabilità in linea con la convenzione il comitato è preoccupato per la mancanza di consultazione con le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative e per il fatto che l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità non è un organo consultivo permanente eccetera eccetera non voglio annoiarvi con la lettura di un documento che trovate in rete noi abbiamo anche analizzato il meccanismo di funzionamento di questo osservatorio nazionale costituito presso il ministero della disabilità che dovrebbe fare la interfaccia rispetto all'amministrazione italiana rispetto all'attuazione di questa convenzione abbiamo detto all'osservatorio ma dove sono nei vostri organi le associazioni che rappresentano i disabili sotto il profilo attenzione della disabilità psicosociale che ha delle sue caratteristiche specifiche che rendono indispensabile che ci siano i portatori di quegli specifici interessi a collaborare anche alla riforma normativa una riforma che di cui si comincia a parlare anche in parlamento si è citato si è citata l'interpellanza parlamentare recentissima dell'onorevole Dattis quindici giorni fa un mese fa che ha avuto una risposta assai deludente dal sottosegretario al ministero della giustizia Francesco Paolo Sisto che ha detto state tranquilli abbiamo istituito il tavolo delle fragilità che è presieduto da Paolo Cendon e composto prevalentemente da membri dell'associazione diritti in movimento cioè la sua associazione cioè esattamente da parte di coloro che hanno creato questo sistema e che hanno ignorato queste prerogative che sono riconosciute ai disabili sul piano internazionale così affidando le pecore al lupo allora io concludo vi ringrazio credo che ci sia un grande cammino da compiere eventi come quello di questo pomeriggio ci consentono non soltanto di parlarci gli uni con gli altri a volte come accade in queste situazioni ma anche di avere delle interlocuzioni istituzionali la moltiplicazione di questi incontri credo ci consente anche di creare quella coscienza sociale quella pressione che finalmente faccia in modo che gli operatori studino che i giudici tutelari si formino che gli amministratori di sostegno comprendano e in questo senso il nostro articolato va sicuramente riformato noi stiamo lavorando a un progetto di riforma per fare in modo che l'amministrazione di sostegno ritorni a essere quella che sembrava volesse e dovesse essere nel 2004 cioè uno strumento di affiancamento di supporto al processo decisionale autonomo abbiamo segnalato e chiudo davvero esperienze come quella svedese dell'ombudsman personale cioè uno strumento di supporto al processo decisionale privo di alcun potere nei confronti di un individuo che pure può essere sottoposto ad altre forme di limitazione della capacità di agito vi ringrazio davvero ancora e vi saluto scusate il tempo purtroppo stringe ci sono tante altre persone che vorrebbero intervenire vorrei dare la parola all'avvocato Luigi Galloni che rappresenta i giuristi democratici da Roma che da tempo che chiede di poter intervenire vediamo però per favore avvocato cerchiamo di limitare il tempo non oltre i cinque minuti per favore grazie buongiorno saluto tutti i presenti e soprattutto ringrazio dell'invito la dottoressa Belotti e le associazioni che hanno permesso di realizzare questo interessantissimo convegno io faccio parte di un'associazione che tratta appunto dei soggetti della tutela dei soggetti debili della tutela dei diritti umani che sono i giuristi democratici che diciamo nello specifico non si sono non sono mai entrati in questo tipo di argomento ma che sicuramente sotto lo stimolo di questo convegno sicuramente si adopereranno a fianco anche delle associazioni i cui rappresentanti si sono espressi prima di me e che sicuramente hanno stanno svolgendo sul campo un lavoro encomiabile parto subito dicendo alcune cose visto che siamo nel vivo del dibattito da questo punto di vista degli amministratori di sostegno io personalmente faccio l'avvocato ma non sono né un tutore né amministratore di sostegno però ho avuto ovviamente nella mia esperienza professionale comunque contatti con queste figure e con situazioni diciamo così di fragilità mi sembra però di capire da tutto quello che è emerso che il problema centrale che mentre la norma si proponeva di mettere il focus del problema sul soggetto interessato sul soggetto che andava aiutato poi nella pratica questo focus si è andato spostando verso quelli che sono degli interessi che fanno parte soprattutto o della cerchia familiare o di altri interessi che possono essere addirittura nei casi diciamo così che ci hanno raccontato precedentemente anche di interessi forse confliggenti o comunque diciamo di tipo individuale degli amministratori di sostegno è chiaro che questa problematica sorge nel momento in cui i poteri che vengono affidati all'amministratore di sostegno non sono adeguati a svolgere il compito ovvero sono strabordanti rispetto al compito che dovrebbero svolgere se le esperienze che sono state riportate inducono a pensare che quasi l'amministratore di sostegno sia un tutore con un nome diverso ma che vada ad escludere la compartecipazione del soggetto che ha le decisioni del soggetto che andava aiutato è chiaro che da questo punto di vista noi assistiamo a una distorsione di quelle che erano le le buone volontà del legislatore e che chiaramente poi nel campo probabilmente dell'attuazione come spesso avviene per molte riforme che appaiono sulla carta e incomiabili poi dopo nella vita pratica non vanno a svolgere il compito che dovrebbero svolgere per cui sicuramente da questo punto di vista forse i giudici tutelari si trovano proprio in questa difficoltà cioè di dare di affidare un compito stabilendo dei poteri di tipo generale e forse su questo ci dovrebbe essere un discorso di maggiore attenzione perché dovrebbe essere un affidamento di poteri minimi e che poi eventualmente nel caso concreto vengono estesi a seconda delle situazioni e non di poteri massimi che poi provocano una serie di disagi e di problemi e di uno sviluppo e una moltiplicazione di conflitti anziché andare ad aiutare situazioni di difficoltà e di fragilità detto questo volevo un attimo anche parlare in generale di altri due problemi che sono venuti fuori diciamo così nel corso del dibattito uno molto velocemente sul discorso del pubblico privato del discorso della difficoltà di avere visite esami clinici nei tempi dovuti e così via volevo comunicare intanto voglio dire poi credo che anche altre associazioni e comunque nella società civile si sia insomma abbastanza diffusa la notizia che quando si hanno adesso delle prescrizioni mediche con una determinata tempistica il cittadino può andare a chiedere all'asla di appartenenza di mantenersi dentro i limiti indicati dal dottore di base e può poi intervenire presso l'amministrazione se i tempi sono prolungati per avere comunque in utilizzare i servizi che i servizi privati all'interno degli ospedali pagando lo stesso ticket che pagherebbe per il servizio pubblico detto questo su pubblico e privato io abito in una regione che è il Lazio dove abbiamo assistito alla chiusura di grandissimi nosocomi addirittura alcuni che erano stati appena ristrutturati come il San Giacomo o alcuni che avevano una storia e che ancora potevano avere una grande storia come il Forlanini che si occupa proprio delle malattie polmonarie infettive di tipo polmonare e che in questa pandemia forse sarebbero stati molto ma molto comodi come per il loro lavoro di nosocomi pubblici da questo punto di vista si è detto sì non bisogna penalizzare neanche il privato bisogna vedere sì ma quando noi abbiamo una situazione della diciamo così dei nostri poteri politici che portano a fare in modo che il pubblico sia sempre meno efficiente è chiaro che poi il privato diventa più efficiente e allora come in tante regioni anche nel Lazio siamo quasi al 50% della spesa pubblica che va alla sanità privata questo ovviamente è un problema che chiaramente oggi ci coinvolge moltissimo che fa sì che oggi ci troviamo anche in una situazione in cui sotto con pochissima risonanza da parte degli organi di informazione sta passando anche il sistema della cosiddetta autonomia differenziata che nel campo sanitario potrebbe portare delle gravissime distorsioni e ancora di più il diciamo così spostare la bilancia e i bilanci verso i settori privati rispetto ai settori pubblici detto questo stiamo tutti allerta cerchiamo di partecipare perché quello che sta avvenendo nel nostro paese e segnatamente nelle regioni di Lombardia Veneto e anche nella regione che sta ospitando questo convegno e cioè l'Emilia Romagna potrebbero portare a dei problemi assai gravi con 20 tipi di sanità ancora più differenziata nell'ambito nazionale e con dei sistemi assolutamente a circuito chiuso ricordiamoci che abbiamo avuto una pandemia e che questo sistema sia di sistemi a circuito chiuso sia i sistemi di sanità privata hanno portato sicuramente molti difficoltà in più nell'affrontare queste problematiche grazie credo che sia doveroso dare la parola al dottor Fierro che tratterà il tema della partecipazione quanto mai visto che appunto era l'argomento principale uno dei due argomenti principali io vi ringrazio potevo pure non so se c'è un altro intervento potevo pure attendere dopo il suo intervento ci saremo la parola allora la cosa importante che volevo sottolineare stasera è la nostra esperienza che in qualche modo la consulta popolare salute e sanità della città di Napoli che in qualche modo risponde ad alcuni quesiti che sono emersi dalle dalla discussione stasera i problemi che ha sollevato l'avvocato Trepeschi relativi al ruolo per esempio dei comuni in tutta questa vicenda in genere è assente si definono sui temi sanitari e sociosanitari quindi è un problema serio il problema della formazione la concezione stessa della medicina o comunque della sanità in genere il congetto di sanità il problema della partecipazione democratica che teoricamente è garantita però di fatto è sempre più difficile da rappresentare realmente e poi il problema delle rappresentanze nel senso che i soggetti fragili i soggetti debili chi li rappresenta realmente nel rapporto con le istituzioni e che Valenza hanno diciamo per quanto riguarda la ad esempio alcune alcune fragilità come il disagio mentale che più volte è stato è stato qui citato no? Allora il la questione è questa ci tengo pure a dire un'altra cosa che a proposito di autonomia differenziata non è la prima volta che veniamo qui a Bologna a parlare di queste cose perché abbiamo presentato avanti avanti ancora abbiamo presentato uno dei lavori scientifici che è stato tratto dalla collaborazione tra studiosi e movimenti eh al congresso al al congresso di Bologna della SNOP che sarebbe la società nazionale operatore della prevenzione quindi praticamente abbiamo messo a punto uno strumento che può essere interessante proprio da un punto di vista medico no? Allora prima di tutto il l'istituzione della consulta voi sapete tutti che il il sindaco e il tutore della salute di tutti i cittadini che amministra però di fatto questa funzione non viene mai svolta noi abbiamo costituito una una serie un organismo di eh che è una catena di associazioni che rappresentano le 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 problematiche della salute in particolare sofferenti ma ma anche operatori di settore e comitati di lotta eh che svolgesse questo ruolo di di riempisse questo vuoto di di collegamento tra il primo cittadino e la popolazione sui temi della salute e quindi il sindaco Luigi De Magistris è meglio che farci il nome nel duemila e duciotto riconobbe questa nostra istanza e stabilì per decreto sindacale la l'istituzione di questa consulta con la funzione di incentivare la più ampia e reale partecipazione delle persone intorno ai temi della salute dando rappresentanza collettiva alle associazioni che operano nel campo della tutela della salute e specialmente eh dando importanza a allo studio dell'approfondimento e documentazione in materia di sanità territoriale ospedale e al rapporto poi con l'istituzione comune eh la cosa importante che questo decreto che fu vai avanti sempre non distrarre eh questo decreto praticamente eh fu poi ratificato da tutti i consigli comunali di Napoli poco prima che finisse la consigliatura quindi questa adesso è legge del della struttura comunale non è più legata alla figura del singolo sindaco allora a proposito di il collega non c'è più eh di praticamente vai avanti eh eh ok praticamente a proposito di eh rapporto no e di conoscenza del problema salute eh noi abbiamo messo a punto una serie di tavole di studio eh uno che si interessa dell'ospedaliere territoriale uno di salute della salute mentale e poi vi spiego nel dettaglio com'è articolato il gruppo dell'autismo che è una problematica molto complessa eh diritti senza frontiere che sarebbero gli immigrati le marginalità eh le carceri devianza sociale eh e via dicendo l'ambiente e l'epidemiologia l'epidemiologia perché è importante e quindi io la la imporrei proprio come in materia di studio eh nel corso appunto di medicina perché in linea di massima dal nostro punto di vista eh l'idea era quella che la salute non può essere considerata un problema del singolo no ma deve essere per essere compresa deve essere eh diciamo considerato come un bene comune e quindi eh necessita dei grandi numeri i grandi numeri che ci vengono dati dalla collettività il gruppo di epidemiologia utilizza necessariamente dei dati ufficiali che sono quelli dell'anagrafe del Comune di Napoli sono quelli dell'Istat sono quelli eh dell'ASL o della regione vai avanti allora i documenti ufficiali che abbiamo utilizzato sono l'anagrafe e insomma una cosa eh i dati dei nati e dei morti anno per anno è distribuito poi vi farò vedere come ne abbiamo utilizzati eh eh un documento importante fondamentale è quello del profilo di comunità che uno studio diciamo redatto eh il rapporto tra i servizi sociali e l'ASL e eh la commissione parlamentare d'inchiesta sulle sulle periferie è stato un atto importante che ci ha dato numerosi elementi di giudizio proprio sulla condizione di salute delle delle città vai avanti perché eh nel nostro caso nel caso eh parlo di Napoli abbiamo scoperto che al di là delle immagini di della città cartolina eh in gran parte la stragrande maggioranza della popolazione della città di Napoli vive nelle periferie vai avanti dove eh è concentrato anche il eh il maggiore disagio sociale abbiamo i i tassi di di eh di disoccupazione maggiore vai avanti e quindi anche eh di eh di disagio sociale purtroppo la nostra città ha il primato nazionale anche sulle sulle altre città del sud vai avanti allora eh per quanto riguarda eh abbiamo posto particolare attenzione all'indice di vulnerabilità sociale e materiale che è composto di sette elementi di sette indicatori cioè eh praticamente le le fasce di età eh eh della della popolazione l'incidenza percentuale di famiglie numerose con più di sei componenti incidenza percentuale di famiglie con eh con eh componenti ultraottantenni oppure con eh con eh persone con disabilità popolazione residente in situazioni di abitazione occupata disagio abitativo e incidenza di giovani al di fuori del mercato del lavoro eccetera eccetera vai avanti e abbiamo strutturato uno un elemento abbiamo utilizzato in effetti uno strumento di valutazione della salute che è quello che è stato definito è stato inventato per così dire dal dal professor Valerio Gennaro e penso che diversi di voi conoscono che è il referto epidemiologico comunale che si che utilizza eh utilizza eh praticamente le i dati dell'anagrafe del comune c'è la numerosità dei deceduti e la corrispondente il rapporto con la corrispondente popolazione residente per circoscrizioni vai avanti noi abbiamo analizzato un periodo che va dal 2009 al 2017 in base a questo calcolati i tassi di mortalità generale della città abbiamo poi eh fatto il rapporto quartiere per quartiere eh diciamo del rapporto standardizzato di mortalità vuol dire il divario tra i decessi attesi e quelli realmente verificatisi e quindi abbiamo colorato diciamo in maniera diversa secondo delle criticità le varie aree della città vai avanti vabbè questi sono i quartieri di Napoli che a voi non diranno proprio niente perché voglio dire non li conoscete però vai avanti questa è la mappa della città di Napoli dove praticamente gli eccessi di mortalità eh rilevati sono quelli dell'area in rosso le aree in rosso come vedete riguardano prevalentemente la le periferie e in particolare la periferia nord orientale dove tra l'altro c'è pure un sito di interesse nazionale cioè di inquinamento di vecchia data vai avanti vabbè abbiamo vai avanti abbiamo analizzato pure l'andamento cronologico per cui abbiamo raffrontato per esempio la mortalità tra i quartieri più ricchi migliori eh Posillivo che sta che è sempre molto al di sotto della della media cittadina con quella del quartiere peggiore che si trova nella periferia nord orientale che come vedete è sempre superiore ma addirittura va peggiorando nel tempo invece di diciamo appiattirsi vai avanti vabbè le periferie vabbè insomma come si vede eh vabbè come concezione sarebbe la distanza che separa dal centro eh cittadino diciamo la la eh le aree urbane però non si tratta solo di questo evidentemente vai avanti perché come vediamo dai dati poi che ci hanno dato la commissione parlamentare sulla sulle periferie nelle stesse aree eh si concentra per esempio la bassa scolarità va avanti al contrario dove diciamo la gente vive meglio comunque di più si ha una maggiore tasso di eh di scolarizzazione ma una maggiore concentrazione di titoli di studio elevati va avanti pari pari quasi una fotocopia dove si concentra la disoccupazione c'è pure maggiore mortalità al contrario insomma l'occupazione eh eh si vai avanti l'occupazione invece è concentrata nell'altra zona così pure i giovani in cerca di di vai avanti di prima occupazione l'incidenza di famiglie con potenziale disagio economico e poi vai avanti ci sta il paradosso che non credo sia solo napoletano che abbiamo che dove si concentra l'indice maggiore di di vecchiaia c'è pure la maggiore sopravvivenza cioè il tasso di minore mortalità vai avanti e invece eh al contrario abbiamo che la mortalità maggiore ci sta dove ci sta la popolazione eh giovanile più concentrata ma però più povera va beh vai avanti va beh questo è il valore catastale e ci troviamo vai avanti l'indice di vulnerabilità è sempre la stessa storia perché praticamente c'è un rapporto diretto tra eh le questioni diciamo social di sofferenza sociale e la salute in genere e quindi anche la mortalità vai avanti vai avanti la distribuzione dei servizi sanitari poi paradossalmente è tutta concentrata nell'area minore migliore cioè eh piuttosto che dove ci sta maggiore eh maggiore bisogno vai avanti allora molto spesso eh per parlare proprio di di formazione medica ci insegnano che eh poi alla fine se la gente voglio dire va incontro maggiormente dalle malattie e alla morte eh in maniera precoce è colpa del singolo perché non rispetta alcuni stili di vita no? come non fumare eh non bere eh fare sport eccetera eccetera in realtà vai avanti noi abbiamo visto c'è che un rapporto diretto invece ci sta tra da altre statistiche per esempio patologie croniche e sofferenza mentale con l'occupazione no? che sembra una cosa così eh praticamente eh i lavoratori precari disoccupati hanno una maggiore percentuale di patologie croniche e e di e di sofferenza di di disturbi psichici e avanti va beh lo stesso per quanto riguarda poi la l'aspettativa di vita e qui e avanti ok questo è un elemento importante che attiene appunto al discorso della della formazione cioè molto spesso quello che dice la scienza medica cioè la concezione della salute della malattia del disagio del benessere malessere eccetera non corrisponde a quello che i soggetti no eh eh recepiscono cioè molto spesso i medici non si trovano su quella che è la sensazione dei pazienti oppure dei dei cittadini e quindi è importante e questo ritorno diciamo a una una vecchia eh definizione una vecchia eh una vecchia eh concezione che 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 è sempre attuale che è quella di Maccagato che è fondamentale l'affermazione eh che è fondamentale l'espressione dei soggetti diretti la soggettività dei pazienti dei soggetti rispetto ai problemi della salute perché senza questa soggettività non è possibile organizzare la partecipazione e senza la partecipazione cioè eh ascoltare insomma quello che che eh i soggetti diretti hanno da da esprimere sull'argomento non è possibile alcuna trasformazione va avanti la salute quindi è un'esperienza individuale e collettiva che varia molto a seconda delle classi sociali tra i popoli tra i vari contesti storici e politici e praticamente questa 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 concezione è necessita della partecipazione che è l'unico riferimento utile per seguire il continuo cambiamento della nostra società vai avanti questo attiene non solo diciamo un po' questa crisi di rappresentanza non riguarda solo diciamo la concezione medica ma in qualche modo anche il mondo politico il modo di rappresentare nelle istituzioni le problematiche in genere anche quelle sociali questa è una è una frase di di Pansieri che praticamente stimolava a a tenere diciamo in grande considerazione quelli che sono i movimenti spontanei la consulta va avanti la consulta quindi si è ha tenuto presente questa cosa qui e quindi si è sforzata di andare a rappresentare direttamente i soggetti stimolandone la soggettività e il protagonismo e quindi il mondo dell'immigrazione abbiamo delle va beh queste sono delle foto di manifestazione che abbiamo fatto giusto per dire che insomma ci stiamo nelle cose il mondo dell'immigrazione che continuamente è in in evoluzione qua ci sono pure delle bandiere dell'Ucraina i rifugiati ucraini che sono arrivati qua si aspettavano i tappeti e poi dopo un po' hanno scoperto che noi ce la passavamo male ma pure loro ce la passeranno male vai avanti le lotte dei quartieri popolari per difendere i servizi ospedalieri che si stanno continuamente depauverando come ha denunciato pure la collega come gli ospedali che si chiudono e la mercificazione e la privatizzazione vai avanti c'è il problema di rappresentare per esempio il la complessità della della sofferenza mentale in genere guardate di fatto a rappresentarle sono i i i familiari no e qui mi rendo conto pure di tutte queste problematiche del diciamo di tipo legale che si possono innescare che sono problematiche serie sicuramente diciamo c'è un un tentativo di espropriare completamente queste persone i loro diritti e trasformare o il problema in un problema di ordine pubblico oppure una una questione di di conflitti su su questioni su problemi economici che che è un'altra tristezza diciamo di tutta sta facendo vai avanti c'è il mondo della disabilità e delle diversità guardate abbiamo avuto l'esperienza del rapporto col mondo per esempio dei dell'autismo vai avanti e alcuni settori diciamo di questi tipi di eh soggetti che stanno nello spettro autistico per esempio gli altri hanno detto ma io non mi sento un disabile io mi sento un diverso no? ho delle diversità e voglio la il diritto di rappresentarli così come sono di non essere considerato un handicappato non so se mi spiego vai avanti allora alla fine qua il problema per noi che eh su questo argomento ma su tutti gli altri è che sostanzialmente noi dobbiamo combattere contro la malattia come la perdita della partecipazione cioè nel momento in cui l'ammalato viene reificato diventa un oggetto e lì si perde ogni diritto di partecipare gli facciamo un danno come persona come cittadino come essere umano e quindi praticamente dobbiamo rifiutare la perdita di partecipazione come una vera e propria malattia ho finito il dottore Antonio Madera ora la parola Antonio vieni buonasera sono Antonio Madera della domanda in maniera in maniera immeritata sarei rappresentante del comitato regionale contro ogni autonomia regionale o differenziata l'unità della Repubblica e il e le diseguaglianze sì allora ho un po' di difficoltà perché non so come inserire la mia presenza il mio ragionamento che sarà di tre minuti di più in questo contesto. Allora, cosa ho percepito io oggi qui? Ho percepito due cose fondamentali. La richiesta di maggiori garanzie da parte, perdonatemi per il termine, la filiera produttiva che dovrebbe sanare o rendere meno doloroso il disagio psicosociale, no? C'è una forte richiesta di garanzie e di diritti di garanzia. È una forte richiesta di formazione di tutti gli attori di questa filiera. Perché io non ho capito bene fino a che punto, o meglio l'ho capito, ma è una provocazione, fino a che punto conta di più la parte medica o la parte giuridica. Però poi sono quasi uguali quando, sia nella parte medica che nella parte giuridica, vedo i professionisti. Io sono un medico, quindi parlo anche di miei colleghi. Questa motivazione semplice, ricorrente, che non è più un'emergenza se diventa ricorrente per anni, anni, anni. Abbiamo torto tempo per prestazione, siamo aziendalizzati, dobbiamo produrre e quindi abbiamo dei limiti, no? Poi però non capisco per quale motivo i miei colleghi medici di famiglia vogliono fare i liberi professionisti indipendenti, ma non vogliono la concorrenza. Per cui non ho mai sentito nessuno che parli dell'abolizione del numero chiuso. Io quando mi sono laureato non c'era il numero chiuso, però i miei colleghi medici di famiglia andavano in appennino a seguire i cittadini. Ieri Bordone, il direttore, il dirigente dell'ASL, ha detto che non ci sono medici di famiglia che vanno a sostituire i dimissionari in appennino, no? Quindi non è una sparata sostenere la richiesta dell'abolizione del numero chiuso, al di là del dettame costituzionale sul diritto alla scuola e all'istruzione, no? Non è una sparata. Ci si può ragionare, perché se tu non crei quel surplus di medici da metterli in concorrenza, a quel punto quel surplus che fanno, obbligano l'istituzione, che non possono tenere a spasso dalla gente formata, ad assumerli nel pubblico e quindi a prestare prestazioni sanitarie. E quindi non avere viste d'attesa e non dover accreditare andare al privato. Allora, torno all'autonomia differenziata, ma c'è anche questo. Vi faccio due provocazioni fortissime. Come percepiscono i cittadini l'autonomia differenziata? Non lo so, però io so che spesso e volentieri devo dirgli, guardate che non si parla della gestione dei rifluti solidi urbani. Questo è il livello di conoscenza, perché non c'è trasparenza e non c'è informazione. Come la percepisco io? Altra esempio, Bonaccini va dalla Germini e gli dice, senti, avrei bisogno di legiferare in maniera autonoma sulla filiera di produzione dei tortellini, ci sta. Se mi passate, no? L'ironia. Ma non è possibile che facendo finta di chiedere in maniera di materie diverse, le tre regioni più grosse e produttive dello Stato italiano chiedono tutte le materie e tutte quante nello stesso modo non c'è più autonome differenziata, pur stai facendo un'operazione. Stai trasportando l'attività legislativa dal Parlamento alla conferenza delle regioni e all'assemblea legislativa di una regione. Perché è importante questo? Perché il Parlamento non è subalterno al governo. Se il governo cade, il Parlamento ne può nominare un altro. Quindi il leader democratico e il legislativo va avanti. Nel Parlamento e al nazionale ci sono delle garanzie, dei contrappesi che limitano lo strapotere del legislatore o il potere del legislatore. In una regione questi contrappesi non ci sono. Quindi noi saremo, la nostra vita sarà regolamentata anche dalla caratterialità del presidente della regione. Perché l'assemblea legislativa è subalterna alla giunta regionale. Perché non può sfiduciarlo. Perché se lo sfiducia si va di nuovo a elezioni. Io di presidenti di regione ne ho visti due. E basta che si sono dimessi. Ma per fatti belli gravi. Uno e l'altro. La giustizia ha detto che invece non aveva nessuna colpa è stato un problema non bello. Allora, come concludo? Concludo che rispetto al contesto di oggi, se io sono il legislatore regionale che voglio delle prerogative, attenzione tutte, perché voglio che lo Stato mi lasci libero di legiferare perché così faccio rendere di più i servizi nella mia regione e poi ti ritrovi che il presidente Bonaccini fra le sue materie mette la governance degli enti locali. Cioè, toglie questo diritto ai comuni. Perché sta succedendo questo? L'epore. Perché si è arrabbiato un mese e mezzo fa? Perché Bonaccini e Zai, eccetera, vogliono togliere, vogliono avere la governance degli enti locali. E l'epore si è arrabbiato. Io mi sarei aspettato una guerra politica su quelle dichiarazioni d'epore. Zitti tutti. Zitti. Non c'è stata ancora una risposta. Allora, lascio stare il mio stile androttiano che a pensare male ci si prende di più. E dico soltanto che si ricade nello stesso problema. Trasparenza e informazione. Nessuno lo sa. Nessuno sa che Bonaccini e il Partito Democratico che fanno la differenza quando si cambia la Costituzione. Perché in Italia la Costituzione si è cambiata soltanto quando l'ha voluto il Partito Democratico dalle sue prime identità PDS, DSU, LIU, eccetera, eccetera. Perché se ci sono loro si cambia la Costituzione. Se c'è la destra, la destra non c'è riuscita mai. Allora, questi ci stanno regalando il patto sociale della Lega. La Lega nasce per l'autonomia regionale, per il federalismo. Noi stiamo andando verso questa cosa. Non lo sa nessuno. Vi chiedo di informarvi e di rendervi conto che noi abbiamo avuto, e concludo, i nostri nonni o i nostri padri, partigiane e partigiani che hanno lasciato la vita per la Repubblica e ci ritroviamo venti presidenzialismi. Grazie. Sì, domani mattina alle dieci e mezza a Centrocosta parleremo di tutte queste cose, materie per materie, per cui se venite ci fate piacere così potete partecipare. Volevo dire solo una cosa, se hai guardato i dati della Commissione parlamentare sulle periferie, quella cosa che dici tu, la percentuale del disagio di disoccupazione, di povertà che riguarda le città del sud. Sì, sì, sì. Unire a questa faccenda qui vuol dire, se si vuole la guerra civile in Italia. Stiamo andando a questo. Anche perché, attenzione, l'autonomia regionale non fa differenze fra regioni e regioni. Le diseguaglianze le crea anche all'interno della stessa regione. Perché? Perché se il legislatore delibera sull'accreditamento delle prestazioni sanitarie, sul fatto che non vuole il numero chiuso, sul fatto che vuole una quota a parte di specializzanti del dibuto formativo, eccetera, eccetera, è il motivo per cui magari in Appennino non c'è i medici di famiglia e in pianura ce l'hai e viceversa. Le differenze si fanno anche all'interno del territorio. Grazie. Ringraziamo il dottor Mader anche perché l'argomento che ha sollevato, non vorrei che pensaste che fosse fuori tema, è completamente calato nella situazione che noi vediamo con l'esternalizzazione dei servizi. L'esternalizzazione dei servizi è una piaga dolente. Pensate un po', se passa l'autonomia differenziata, sarà ancora peggio. Quindi addio la sanità pubblica. Se ora con l'esternalizzazione dei servizi stanno peggiorando notevolmente le situazioni. Quindi ora però debbo stringere. Passerei la parola al professor Anao che ha qualcosa da dire al riguardo, penso che riguardi l'amministrazione di sostegno, qualcosa di analogo. Grazie. Sì, esattamente. Vorrei proprio parlare dell'amministrazione di sostegno così come viene applicata. Dal punto di vista della legge, ai bei tempi, quando venne fatta la legge sull'amministratore di sostegno, ero vicepresidente della FIS insieme a Tillo Nocera, della FIS della Federazione Italiana Supervento Endica. E proprio con lui abbiamo cercato di spostare quello che era la tutela del patrimonio verso quella che doveva essere la tutela della persona. Quindi la legge l'abbiamo fatta, diciamo, non l'abbiamo suggerita perché l'ha fatta il Parlamento, mica noi. Però la legge aveva questo scopo ben preciso. E vedo purtroppo in alcuni casi che conosco. Ovviamente la nostra associazione del Tribunale della Salute vede normalmente i casi che vanno male, non i casi che vanno besi. E questo è un'ottica che dal punto di vista statistico ovviamente è un campione che non è un campione rappresentativo. Però vediamo parecchi casi che ritornano alla figura di chi deve tutelare il patrimonio e non di chi deve tutelare la persona. Questo direi che proprio è un ritorno indietro. Nonostante la legge, perché la legge non dice questo. Però purtroppo la nostra magistratura sappiamo in che condizioni è. Non solo per l'amministratore di sostegno ma per tutto ciò che è giustizia. Ecco, questo è uno dei più gravi problemi che abbiamo noi in Italia e che oltretutto eh provoca danni non solo a questo ma anche a tanti altri settori come quello dell'economia. E così va meglio. L'economia italiana viene viene veramente limitata perché gli stranieri prima di venire a investire dalle nostre parti si informano e dicono ma se per caso poi qualcosa non funziona posso rivolgermi a magistrato in tempi non biblici perché se i tempi sono biblici a quel punto lì è meglio lasciar perdere. In particolare a Bologna ci siamo trovati di fronte a certe situazioni che vanno effettivamente denunciate. Abbiamo degli amministratori di sostegno che per esempio non fanno vedere e questo è stato ricordato anche da un'esperienza prima la contabilità alle persone che sono da amministrare, che non sono dal punto di vista di eh così di intellettivo incapaci. Io mi riferisco a persone che sono capaci di intendere, di volere e di fare anche bene i loro conti. Quindi questa è sicuramente una cosa che succede anche qui da noi. Quando si cerca di cambiare un amministratore di sostegno è difficilissimo. Si sentiva male perché purtroppo non posso un sordo io, ma era anche perché eh la sala qui non è il meglio dal punto di vista dell'udito, no? Ecco. E mi passo di sentire che la stessa cosa è stata detta dalla magistrata che era qui presente, che diceva quando c'è già un fascicolo impostato, una persona che ci lavora già sopra, eccetera, eccetera, tornare a ricominciare da capo è indubbiamente un lavoro, sia per il magistrato, sia per quello che è poi il nuovo amministratore di sostegno, con rischio al solito che quello che è arrivato dopo c'è il rischio che si appena di quello di prima. Beh, posso parlare forse anche con voi situata che così si senta lo stesso. Allora, intanto la gestazione va avanti lo stesso. Voi mi sentite ugualmente se parlo poco? Allora, diciamo, questa è qualcosa che succede anche a noi, dobbiamo mettersi, dobbiamo veramente mettersi fine a questo modo di trattare. E come dico, non è che tutti gli amministratori sostengono, ma di qualcuno. I magistrati che si occupano di queste cose, è stato detto qui, lo detto, spesso non sono i magistrati leader della... Allora, non sono i magistrati leader nel loro tribunale. Parliamo addirittura i magistrati che sono quelli che non sono togati e quindi anche lì, chiaramente, anche lì c'è qualcuno bravissimo che si comporta molto bene, qualche altro che invece non conosce neanche le leggi come dovrebbe conoscerli e quindi fa quello che può. Veramente, su questa cosa noi come Tribunale Salute abbiamo cercato di impegnarsi per cercare di assistere queste persone. Ma è veramente molto, molto difficile per tutte le cose che si è detto. E qui si è detto una cosa importantissima, che andando avanti, se adesso sono centinaia di migliaia, diventeranno milioni, perché l'invecchiamento della popolazione porta a questo. Non voglio continuare, ma potrei dire altre esperienze di questo genere. Le persone che vogliono, per esempio, morire a casa, che vengono costrette ad andare in una residenza. Ecco, anche Errani, mi ricordo, che disse tranquillamente... No, scusate, Versani disse proprio questo. Se io voglio morire a casa mia, ma lasciatemi morire in pace. Come una volta. Non c'è per forza necessità di campare un mese in più, due mesi in più, con l'assistenza della fine del mondo della tecnica sanitaria. Se io scelgo di lasciarmi in pace, devo essere lasciato in pace. Può cadere la persona anziana che si muove in casa? Sì, è vero, può cadere. Ma i geriatri, e io con i geriatri sono stato molto vicino per anni perché ho segnato geriatri sociali, i geriatri dicono, se noi a un certo punto lo leghiamo a letto non cade più, ma muore prima perché gli vengono le piaghe da decubito. Cioè, bisogna ammettere che c'è anche la possibilità di rischiare di morire per soddisfare le proprie esigenze. Non dico di Macacaro perché effettivamente è stato ricordato qui e lo ricordo sempre tanto tanto volentieri perché dal 68 che ho lavorato un po' con lui e sono stato veramente molto molto contento di poterlo incontrare. Peccato che sia morto giovane. Grazie. Grazie professore. Ha sollevato il problema del rendiconto che è stato segnalato anche a me da più persone. Anche questo è un argomento molto dolente. Comunque ora se permettete darei la lettura della lettera che ci ha inviato l'assessore regionale alla sanità Raffaele Tonini dal momento che ho promesso che l'avrei letta nel corso. È con piacere che invio i miei saluti ai partecipanti del convegno Formazione e partecipazione in sanità organizzato dall'Associazione Diritti Senza Barriere e da Medicina Democrafica. L'ascolto delle persone fragili, delle famiglie e per la Regione Emilia Romagna è un obiettivo assoluto che riteniamo da sempre imprescindibile. Più nel dettaglio, per calare nel contesto del convegno la sostanza di questo impegno, l'obiettivo che da anni si è dato alla Regione è limitare i confini che spesso vi sono tra quelle che sono le conoscenze scientifiche e il sapere dei tecnici e sull'altro, scusi per favore, viene coperta che dopo la registrazione viene alterata. Potrebbe per cortesia intervenire dopo? Grazie. Ripeto che ho interrotto più nel dettaglio, per calare nel contesto del convegno la sostanza di questo impegno, l'obiettivo che da anni si è dato alla Regione è limitare i confini che spesso vi sono tra quelle che sono le conoscenze scientifiche e il sapere dei tecnici e, sull'altro versante, il vissuto quotidiano delle persone con diagnosi psichiatriche e le loro famiglie. Il modello di cui ci siamo dotati è di un continuo confronto, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ma su un mandato chiaro, costruttivo, innovativo e progettuale. Solo per citare alcune funzioni regionali è attiva la consulta salute mentale, rinnovata nella composizione lo scorso anno. È un organismo cui sono affidati importanti compiti consultivi, propositivi e di valutazione verifica dell'attività dei servizi dei dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche. È l'espressione dei meccanismi partecipativi che coinvolgono diversi attori del sistema di cura regionale, in particolare le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nel campo della salute mentale. I componenti rappresentanti eletti, a maggioranza delle rappresentanze di utenti e familiari, i professionisti delle unità operative dei dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche, delle aziende USLA, del territorio regionale, preselti nelle discipline di psichiatria adulti, neuropsichiatria infantile, dipendenze patologiche, psicologia clinica e rappresentativi, nel modo più esaustivo possibile delle diverse professionalità operanti nel dipartimento e nei servizi universitari, i rappresentanti, gli enti istituzionali, le parti sociali ed il privato sociale ed imprenditoriale, è questo organismo regionale che esprime valutazioni e proposte alla regione Emilia-Romagna in merito all'attuazione di provvedimenti regionali e nazionali, l'organizzazione delle strutture afferenti ai dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche, miglioramento della qualità dei servizi erogati. In ogni azienda USLA sono presenti comitati utenti familiari per poter programmare ed effettuare le medesime valutazioni a livello locale. Nel lontano 2011 la consulta regionale per la salute mentale ha istituito un gruppo di lavoro composto da familiari professionisti delle aziende USLA della regione per approfondire la metodologia del budget di salute al fine di rispondere ai bisogni sociosanitari di utenti che non trovavano una risposta appropriata nei percorsi terapeutici e riabilitativi offerti dai dipartimenti salute mentale e dipendenza patologica. Oggi i membri della consulta regionale sono nel tavolo di lavoro regionale sul budget di salute al pari dei professionisti dei dipartimenti di salute mentale e dipendenza patologica e degli enti locali. Nel 2021 la regione Emilia Romagna ha lanciato un progetto di rilevanti dimensioni per la costruzione di una cartella sociosanitaria informatizzata unica regionale dei servizi dei dipartimenti salute mentale che include le attività della salute mentale adulti, dipendenze patologiche, la neuropsichiatria infantile, la psicologia clinica e servizi tutela minori delle ASL. Grazie alla collaborazione delle associazioni, degli utenti e dei familiari è stato realizzato l'aspetto più importante del progetto. Aver definito la centralità dell'assistito nel processo di cura attraverso la cooperazione dei diversi servizi pubblici o privati che intervengono nell'ambito delle proprie competenze non meno importante il progetto proposto dalla consulta regionale salute mentale che ha promosso lo svolgimento di un audit per misurare la proprietà dei trattamenti con antipsicotici in un campione di utenti con disturbi schizofrenici nel CSM, costituendo talfine un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle associazioni di utenti familiari e professionisti del DSM, un esempio di come i saperi tecnici e il vissuto quotidiano possono adeguatamente integrarsi. Potremmo citare tantissimi altri interessanti progetti, ma la cosa che oggi per me è importante è mettere in evidenza la mission di cui si è dotata la regione Emilia-Romagna, quella dell'ascolto e della successiva presa in carico con la logica della partecipazione, l'unica che può fare davvero la differenza nel contesto complesso della fragilità. Non posso quindi che augurare che le esperienze sin cui oggi è riportate possano essere un ulteriore stimolo affinché i servizi della regione offrano sempre più elevati livelli di quantità ai cittadini. Firmato Raffaele Donini. Allora, come associazioni diritti senza barriere certamente ringrazieremo l'assessore regionale della sanità del suo contributo. Ciò non toglie che ci sono diversi aspetti che non ci convincono e quindi metteremo in risalto quello che da questa lettura emerge molto chiaramente, anche perché sono tutte belle enunciazioni, però detto dalla ex dirigente salute mentale nel corso della consulta della conferenza nazionale salute mentale che si è tenuta nel giugno scorso, bene, ha affermato la notevole discrasia che esistono tra i documenti presentati dalla regione Emilia-Romagna e la pochezza della pratica quotidiana nei servizi. Peccato che questa affermazione l'abbia fatta a pochi mesi dal collocamento a riposo. La sottoscritta può produrre ampia documentazione che ha presentato in regione della quale non ha mai avuto ascolto. Quindi speriamo che questa affermazione che lui dichiara qui dell'ascolto, la centralità del paziente, tutto il resto, sia attuata. Lo speriamo. Comunque noi abbiamo parecchie riserve. Anche per il fatto stesso che noi abbiamo trasmesso per noi, intendo l'associazione che rappresento, ha invitato tutti i consiglieri regionali, tutti i consiglieri comunali, ho spedito 55 inviti ai sindaci della città metropolitana. Il sindaco Matteo Lepore è stato il primo sindaco nel corso della storia comunale, per lo meno per quello che sono a conoscenza io, che risale già da trent'anni, gli altri sindaci assegnavano una delega a un assessore per la sanità. Lui invece appunto si è tenuto alla sanità. E noi come abbiamo saputo di questo ci siamo complimentati. Però l'ho invitato a partire dal dicembre scorso, ho inviato una mail, ho sollecitato più volte, ho rinviato diversi solleciti, ho parlato con la segretaria, ha detto che non sarebbe potuto venire per impegni, per carità sappiamo benissimo quanti tanti impegni possa avere un sindaco, ma abbiamo chiesto perlomeno che avesse incaricato un delegato. No, non si è presentato nemmeno quello. Quindi io vorrei, visto che questo incontro viene registrato, che giunga al nostro signor sindaco Matteo Lepore, che se permettete c'è un po' dell'uso. Ecco, perché tutti i sindaci dichiarano all'inaugurazione del loro mandato che saranno il sindaco, io sarò il sindaco di tutti i cittadini. Allora noi siamo nessuno per lui, visto che non ha delegato nessuno. Con ciò, scusate, darei la parola ai pochi che sono rimasti e infine agli avvocati e al dottor Fierro per le conclusioni. Quindi se qualcuno di voi vuole intervenire, ben accorto. Grazie. 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 Comunque, Adriana, di lì, guarda. Mi chiamo Adriana Palleni e faccio il volontariato sull'ambiente e la tutela della salute. Ho proiettato la mia vita in un mondo però nuovo, è un mondo nuovo che a volte ha le sue inquietudini come quello di adesso perché stiamo attraversando una trasformazione globale, anche mondiale, ma come piccoli cittadini è giusto prendersi delle responsabilità su quanto avviene e credo che in questo mondo nuovo dobbiamo avere l'energia e il coraggio di esprimere con la nostra intelligenza prima che quella intelligenza artificiale già organizzata non ci metta un po' a K.O. Quindi è bene che queste cose che ha portato avanti la signora di diritti senza barriere che conosco da anni ed è impegnata, ha lottato con tutte le sue energie, portare avanti delle voci nuove. All'inizio del convegno ho sentito queste voci nuove ed è stato molto positivo questo. Speriamo che ci sia l'impegno di ognuno di noi. Poi ho riflettuto sul fatto che io, anch'io, non essendo più tanto giovane, sono verso la fine della mia vita, come dice l'attrice La Fonda, sapete che praticamente ho pensato mamma mia, se mi ad un tratto perdessi la testa, mi viene un ittus o qualcosa, come sono messa? Non avevo conosciuto bene questa pratica, quello che la legge ha preparato e abbiamo attuale. Quindi è bene fare dei movimenti che diano forza a questa nuova legge perché sarà anche come un mondo dove la speranza ci sia la degnità della persona umana. Grazie. Ora la parola agli avvocati, infine al dottor Fierro per le conclusioni, eventualmente se ci sono altre osservazioni, ma a questo punto non c'è più il tempo. Grazie. Per quanto mi riguarda. La dottoressa Angela Tagnesi è un medico. No, io volevo solo chiedere, visto che ci sono due legali, la questione del budget di salute. Il budget di salute è molto controverso. Tutti i dipartimenti di salute pubblica, i CSM, non consentono, cioè non forniscono proprio le informazioni né agli utenti e tantomeno ai parenti. Di solito appunto queste persone che hanno dei problemi sociosanitari di tipo psicorelazionale sono costretti a svolgere i laboratori delle cooperative che sono convenzionate con i servizi di sanità pubblica attraverso appunto la ASLA e i dipartimenti. E basta, non c'è altra alternativa. Ovviamente questi laboratori sono i laboratori delle ceramiche, della carta, delle cose che non tengono assolutamente conto della predisposizione della persona o degli interessi. addirittura, per esempio, dice io voglio prendere la patente perché voglio adire ad un lavoro che abbia ad uso l'utilizzo della macchina la patente te la devi pagare tu, non rientra fra le opportunità del budget salute. Questo è vero oppure no? Perché appunto noi spesso, nel senso i cittadini fanno altri mestieri, altre cose, non hanno sempre gli strumenti e ripeto non ricevono nessuna informazione sulle opportunità del budget salute. Quindi volevo, se è possibile, portare all'attenzione anche questa violazione che subiscono, questa penalizzazione che subiscono la maggior parte delle persone. Per quanto riguarda gli amministratori di sostegno, abbiamo due, oltre ovviamente a quella parte quota, sempre che si distingue e che agisce normalmente perché per fortuna c'è, ma come al solito è sempre una minoranza. Quindi abbiamo due situazioni, noi lo constatiamo come medici di trincea, quelli che veramente fanno i medici, non i teorici. Abbiamo delle persone completamente abbandonate, totalmente abbandonate e all'abbandono degli amministratori di sostegno spesso si associa anche l'abbandono dei medici di assistenza primaria, che è il loro vero nome, né di base, né di famiglia. Però non riusciamo neanche a chiamarci come ci chiamiamo, insomma, come si chiamano questi medici. Quindi abbiamo due appunto situazioni, un abbandono completo oppure abuso di potere. Quindi queste persone vengono gestite totalmente senza più nessuna opportunità. Per quanto riguarda poi quello che diceva il professor Anau, che appunto sosteniamo in tanti, che è un addiritto, anzi io direi che in questo periodo prima era normale, ma ultimamente è un lusso morire a casa. Abbiamo la legge appunto sul dolore che consente di farlo, ma non abbiamo la struttura sociale e neanche i medici sono informati su questo, ok? E di solito non favoriscono questo tipo di situazione. Però qui il problema, il problema fondamentale è la cerniera, l'anello di, diciamo, congiunzione fra il medico, la medicina, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali, che sono inesistenti. Perché sì, una persona ha il lusso di stare a casa, sì, una persona può anche cadere non solo quando è anziano, ma anche quando è giovane, ma il problema è che a un certo punto ha bisogno di assistenza per poi appunto decedere serenamente. Rispetto alla questione di budget di salute, è una questione in parte, ovviamente, nell'altro campo, simile alla questione dell'amministratore di sostegno. Cioè è il tentativo, sulla carta ottimo, di creare il vestito su misura per l'amministratore di sostegno rispetto alle esigenze di sostegno giuridico, il budget di salute rispetto a delle risposte che dovrebbero essere su misura, cioè esattamente il contrario di quello che le ha detto. Cioè l'idea del budget di salute sta sotto al fatto che non sono per forza incasellato in quei uno, due, tre, cinque servizi che il sistema regionale offre. Questa è l'idea. Dopodiché, le dico, l'uso strumentale di questa terminologia per fare altro l'ho toccato con mano anche rispetto a situazioni proprio emiliane perché abbiamo fatto annullare il regolamento di una delle principali città dell'Emilia-Romagna proprio perché dietro quello che chiamava budget di salute si nascondeva invece un semplice sistema di compartecipazione al costo che era un modo di aggirare l'ISE. Quindi da quel punto di vista lì si tratta proprio un pochino di capire che cosa sia. L'idea del budget di salute è la stessa del progetto che vi ho detto prima. ma ecco, so che budget di salute lo fa la sanità e il progetto lo fa il comune coordinando anche questo. Però l'idea è sempre quella di andare verso un superamento dello schematismo per cui tu sei da centro di urno, tu sei da RSA, tu sei da... perché è sbagliato, perché appunto è un forzare la vita in canali che non tengono conto dell'aspirazione della persona. Il budget di salute dovrebbe essere lo strumento che ci consente esattamente il contrario. Dopo, nell'applicazione concreta, è chiaro che se vengono fatti senza rispettare queste questioni, senza coinvolgere l'interessato di questo genere, sono tutte situazioni che caso per caso si può anche valutare di contestare. Posso dire appunto di averlo fatto per un'altra... non era Bologna, era un'altra città, il Consiglio di Stato ha annullato il regolamento comunale che definiva come budget di salute richieste con partecipative in debite. si è coinvolto, però è chiaro perché arrivare al budget di salute è non... budget di salute ti posso dare questo, questo e questo. Quello è un voucher, è una cosa diversa. budget di salute significa a fronte di questi bisogni e quindi prima c'è l'analisi del bisogno. Questi sono i bisogni. Queste sono le risposte che possiamo dare al bisogno e che possono anche uscire dagli schematismi delle unità di offerta tradizionali. perché io posso aver bisogno di una cosa... non so... a Bergamo per esempio c'è capitato di fare un progetto nel quale questa ragazza con disabilità grave veniva deistituzionalizzata ma continuava a frequentare la struttura deputata di regola solo a residenza, solo per i laboratori di urni che comunque venivano fatti. Lo schematismo della delibera regionale non lo consentiva. L'aver fatto un progetto specifico per quella persona ha consentito al fatto che l'ATS, che è il nostro nome dell'Asla, consentisse quella deroga su quel caso specifico. Il senso del budget di salute è lo stesso. Questi sono i bisogni, queste sono le risposte e questi sono i soldi, cioè il budget. Dopo appunto nella concreta attuazione ci sono tutte quelle stesse problematiche che abbiamo visto purtroppo anche per l'amministrato di sostegno che sulla carta non, cioè presuppone anzi di non togliere, di togliere la capacità solo negli stretti limiti in cui è necessario e per cui solo nei limiti in cui uno non è in grado, quindi non sono in grado ti aiuto perché anche quelle situazioni devono avere una risposta. se non c'è la capacità qualcuno deve aiutarti a fare quello di cui hai bisogno. Il problema è che tutti questi casi che sono emersi invece è stata una situazione in cui si è tolta molto più capacità di quello che fosse strettamente necessario e anzi che dare un sostegno si è creata una gabbia. Questo è il problema però legato soprattutto all'applicazione pratica. Grazie Avvocato Treveschi. Ora darei la parola all'Avvocatessa Colombini, infine al Dottor Lumia, poi al Dottor Fiero. Togliamo sempre per ultimo Dottor Fiero. Allora, io concludo ringraziandovi perché ognuno di voi oggi mi ha dato un pezzo della sua storia. Ringrazio moltissimo, mi sono segnata il nome, Francesca della Valle, le auguro buona fortuna in una battaglia che adesso colpisce lei ma che potrebbe colpire tutti noi. Quindi grazie sindora a nome di tutti. Ringrazio anche il collega, ho segnato sempre il nome di Palma, di Telefono Viola. Ho trovato le sue parole totalmente ispiratrici. Io la condivido al cento per cento, soprattutto laddove coinvolge anche la società. Cioè quando dice che non dobbiamo creare delle classi dove o sei dentro o sei fuori. Dobbiamo accettarci tutti nelle diversità e creare le condizioni per poter essere una parte integrante. Così avremo anche meno bisogno di nominare amministratori di sostegno, persone terze che debbano sostenerci, aiutarci, perché poi corriamo rischio che in realtà non ci aiutino, ma anzi ci danno la botta definitiva per dire, ok, aspettiamo, come diceva Carlo Girardi, che il buon Dio ci chiami a sé. Quindi grazie a tutti. Concludo. È stato un bellissimo pomeriggio. Grazie a voi. Grazie di tutto. Grazie a lei, a vostra Tessa. Grazie a lei per le attenzioni che ha rivolto alle persone che sono intervenute. Ora, dottor Lumia, per favore. Un breve flash. Ringrazio tutti i partecipanti perché oggi ho fatto io della formazione per me su degli argomenti che conoscevo poco marginamente. Poi sono venuti fuori tanti spunti che secondo me necessiterebbero ognuno di una trattazione, perché comincio con l'ultima cosa che ha detto il collega, dottor Matera, quando parlava dell'autonomia differenziata. Assolutamente sono d'accordo con quello che diceva e bisognerebbe parlarne moltissimo, un po' meno sul discorso che faceva sul numero chiuso, ma bisognerebbe parlarne. Le cose che ha detto il dottor Fierro mi hanno interessato e mi hanno colpito. Devo dire che qui a Bologna il sindaco in campagna elettorale aveva promesso, anche quando era l'ordine dei medici, di coinvolgere i medici e così anche le altre persone nella gestione della sanità. Noi qui abbiamo una conferenza territoriale, sociale e sanitaria in cui viene fatta la programmazione. Il sindaco ha tenuto la delega da sanità, però in realtà attualmente la politica sanitaria la fa reale, comunque è la conferenza territoriale dove dovrebbero esserci i sindaci, si dà delle linee di indirizzo. Abbiamo chiesto di entrarne a far parte come ordine, anche come sindacati, ma a parte la solita triplice sono gli unici sindacati che partecipano e quindi stiamo ancora aspettando il prodotto d'assimo. E poi ci convochiamo. Quindi sì, ho fatto un intervento forse un po' marginale rispetto al tema che avete dibattuto, che secondo me è molto interessante e importante. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio in primo luogo per ultimo, ma per prima, la dottoressa Bellotti che ha avuto la costanza, la patenza, la forza di organizzare questo convegno. Speriamo di vederci ancora, magari di vedere gli argomenti di oggi che sono venuti fuori in altri momenti più specifici di dibattito. Grazie. Vi devo salutare perché ho la macchina nel cortile. La dottoressa Bellotti già è stata uno nostro ospite, avevamo fatto un convegno alcuni, un paio di mesi fa, proprio specifico sulla partecipazione del sindaco all'attività sanitaria, si ricorda. Si, abbiamo invitati, non è venuto nessuno. Adesso abbiamo fatto un gatti di quel convegno, che ho piacere poi di farvi riavere anche al dottor Fierro, adesso appena saranno pubblicati sul bollettino, ma anche noi come ordine puntiamo a questo, insomma una partecipazione del sindaco più attiva alla programmazione sanitaria, non delegata soltanto alle ASL, che purtroppo le ASL sono aziende, sono entrate aziende, e quindi ragionano sempre in termini di budget e non di servizi, mentre invece si dovrebbe ragionare in termini di servizi alla popolazione e alla cittadinanza. Grazie dottor Lumia, grazie ancora. Ora al dottor Fierro per le conclusioni, anche perché qui ci sbattono fuori, proprio letteralmente. Comunque, veramente è stato un pomeriggio interessante, dove sono emersi diverse problematiche, in effetti c'è questo problema specifico dell'amministratore di sostegno, che a quanto pare si presta a numerose interpretazioni, specialmente a diverse anomalie di gestione, addirittura con fenomeni di sottrazione proprio dei diritti e appropriazione in debita. Quindi parliamo poi di, diciamo, problemi che probabilmente avrebbero necessità di un nuovo inquadramento giudiziario, anche, diciamo, di una nuova serie di indagini relative a reati specifici, perché sottrarre illecitamente il diritto, per esempio, di gestire la propria vita a un soggetto che in qualche modo comunque detiene ancora la capacità di esprimere delle proprie esigenze, evidentemente è un reato, è un crimine, e questa evidentemente non emerge dall'attuale legislazione in maniera chiara. In maniera chiara. Quindi vogliamo pure tutte le denunce che sono state fatte qui questa sera. Ci è sembrato molto interessante l'intervento dell'avvocato Trepeschi relativo appunto al ruolo dell'istituzione locale, il comune. Noi in qualche modo l'abbiamo messa a fuoco, no? Con la nostra iniziativa a Napoli, che però, devo dire, era limitata alla consigliatura del vecchio sindaco, non sappiamo il nuovo sindaco come si comporterà, va bene? Questo perché c'è una necessità di dare rappresentanza, esaltare la soggettività dei soggetti, recuperare pure, diciamo, la capacità di espressione, seppur minima, anche nelle forme di fragilità, di disagio, di difficoltà, che può essere anche semplicemente una difficoltà di comunicazione. È importantissima quello che ha denunciato l'avvocato De Palma, cioè il fatto che venga classificato come una inabilità e comunque venga bollato come, diciamo, una disabilità, una semplice diversità, magari una bizzarria, no? Che però non incide minimamente sul resto, sul complesso dell'espressione di un soggetto come soggetto attivo della società. Quindi ancora una volta in questo ambito noi rischiamo, e questa cosa ce l'hanno denunciato più volte i portatori della sindrome di Asperger, che addirittura abbiamo visto persone di un'intelligenza brillante, che avevano delle espressioni, dei risultati accademici, pure di grande valore, che però venivano trattati come degli handicappati, semplicemente perché magari non sopportavano i rumori forti, no? E si allontanavano dai luoghi affollati. Questa diceva, beh, non sta bene, è un pazzo, no? Questa è la cosa, e va, e va immaginato. Quindi noi abbiamo avuto numerosissimi stimoli stasera su cui ragionare, specialmente su cui costruire delle rappresentanze, perché queste cose, queste problematiche, hanno necessità di essere rappresentate. Ritornando a Macca Caro, praticamente, senza la rappresentanza soggettiva, non c'è la partecipazione, e la partecipazione è fondamentale per sviluppare la salute, la salute come benessere. Io ho finito, vi ringrazio di nuovo a tutti quanti. Io ora avrei il compito di chiudere, che è una cosa non certo facile, anche perché io ve lo dico con tutta sincerità, considerato l'impegno che ci ho messo, speravo in maggior partecipazione. Comunque sia, noi continueremo il nostro impegno. E proprio per il poco tempo che abbiamo avuto, avevo sottolineato anche alcuni aspetti che mi sarebbe piaciuto portare alla vostra attenzione. Mi fa piacere che il professor Anau sia rimasto, perché è uno degli argomenti, fra i tanti, quello che è necessario che noi affronteremo, il problema delle visite. Nelle visite, nelle strutture. Non può essere che sia impedito a un familiare che ha un proprio congiunto ricoverato nella struttura che non faccia parte dell'equipe che andrà a effettuare le visite. Ecco, perché questa la sentiamo proprio come una presa in giro. E da una lettera, tra l'altro di un socio di medicina democratica, il professor Bignami, che ora adesso perderei troppo tempo può starla a cercare. Comunque l'ho distribuita, che risale al 2016, a proposito che non ho cambiato le date nei documenti che erano occlusi alla carpetta, perché bastava metterci 2022, che era la stessa cosa. Cioè dal 2016, pensate, non è cambiato nulla. E denunciava proprio il fatto che aveva preso come esempio il professor Poggiolini. Credo che tutti sappiano chi era il professor Poggiolini. Quello appunto dei PUF, ecco bene, questo professor Poggiolini è finito in una struttura e dichiarava il professor Bignami, che avevano fatto delle visite, ecco che erano risultate praticamente inutili. Quindi cosa ci facciamo? Voglio dire, anche nell'RSA, con quello che è successo con l'epidemia, è emerso che i familiari attivi segnalavano le inefficienze e la direzione sanitaria li additava, diceva, ma no, ma siete soltanto voi che vi lamentate. Gli altri va tutto bene. Gli altri chi erano? Erano gli anziani soli, totalmente soli. Ma chi avevano dietro di loro c'era un amministratore di sostegno, ecco, che non andava mai assolutamente a far visita all'anziano. Quindi oltretutto i familiari attivi erano additati per essere i fastidiosi, insomma, i turbolenti, ecco. E i poveretti che erano totalmente soli, ma avrebbero avuto l'amministratore di sostegno che doveva prendersi cura, invece no. Ecco, mi fermo qua. Comunque noi come associazione, con la collaborazione anche di Medicina Democratica, non abbandoneremo la lotta. Vi ringrazio. E anzi, quelli che sono rimasti sono invitati a collaborare.